benvenuti a tutti è un grande piacere avervi qua con noi oggi pomeriggio assieme a tanti amici relatori così cari e io confesso che sono un po emozionata nel presentare francesco sabatini non ha bisogno di presentazioni ma ma voglio dire che le cose che dirò sono soltanto non sono una presentazione sono una testimonianza dell'ammirazione dell'affetto che io e tanti amici napoletani abbiamo per lui a lui dobbiamo tantissimo tanti è una persona che nel corso della sua carriera ha costruito un percorso di grande grandissima originalità indipendenza e che è stato ed è un punto di riferimento per per tanti interessi amplissimi che sono andati da dal problema appunto dei riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'italia mediana e meridionale lui è stato anche in questo un pioniere una persona che ha aperto nuove strade di ricerca per non parlare della sua impostazione di studio dei documenti alto medievali italiani sempre in una prospettiva romanza comparativa lavori che a distanza di diversi decenni rimangono dei punti fondamentali e poi lavori sulla napoli angioina i lavori e l'attività come possiamo dire di politica culturale appassionata sul ruolo dell'italiano nel mondo le questioni anche teorica si potrebbe dire legati alla nozione di sistema al testo la testualità il lavoro lessicografico insomma è inutile che io stia qui ad elencare tutte le le iniziative gli studi molto molto importanti che lui ci ha regalato e grazie grazie di aver accettato di essere qua con noi oggi pomeriggio e io sono molto curiosa di sentire quello che lui pensa a distanza di diversi anni rispetto ai lavori che ha fatto sull'italia longobarda cosa pensa oggi alla luce di ulteriori sviluppi degli studi benvenuto tra noi e grazie ancora francesco rosanna dopo quello che hai detto mi sono coperto di rossore va bello intanto ti ringrazio per questa occasione ho fatto un po di resistenza detto ma non ho più niente da dire sono cose eccetera però il piacere oggi di vedervi tutti qui di fronte mi riempie di gioia quindi grazie 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 a te sul tema di questo incontro ma il mio ragionamento è in gran parte al passato perché poi mi sono distaccato da quegli studi ho seguito un po le pubblicazioni ma non ho indagato ulteriormente se non qualche spunto che farò presente oggi intanto riavvocato un pochino quella che fu una anche per me una sorpresa viaggiando facendo gite movimenti in abruzzo proprio visivamente dalle targhe sulle strade eccetera vedevo che c'era ancora tutto un materiale toponomastico ignorato da tutti il vecchio libro di gamers che era fatto su una guida dei comuni quindi non andava oltre due fare e si e no qualche altro accenno nacque così l'idea di scartabellare di prendere in mano le carte dell'istituto geografico militare tappezza il pavimento perché allora non c'erano computer possibilità di vedere in immagine eccetera mi sdraiavo sul pavimento e così ho cominciato con un pacchetto di schede quindi annotavo via via tavoletta per tavoletta delle carte dell'istituto geografico militare e così è nato quest'idea ne parlai a Mastrelli gli si guarda questo pacchetto di schede già tutte queste ah vai avanti vai avanti mi incoraggiò e voglio ricordarlo da allora naturalmente ogni tanto riapro quelle pagine rifletto vedo quello che si è pubblicato cosa si può dire di nuovo beh prima di tutto che bisognerebbe ancora scavare nel terreno ma in questo caso più da archeologi che non da topografi o toponomasti perché non è possibile che con una densità di fare quindi di insediamento c'è poco da fare le fare individui indicavano la presenza di un gruppo qualche cosa da terra dovrebbe uscire fuori e quindi un appello agli archeologi questo vale non soltanto per l'abruzzo dove io abruzzo market ho trovato tante testimonianze più fitte ma anche più giù e naturalmente la grande sorpresa è stata la la necropoli di boiano e però è ancora ricoperto non è stata tirata fuori e anni fa ho visitato il museo a capobasso il museo provinciale e lì c'è un bel longobardo o bulgaro che sia comunque sempre alleate dei longobardi al cavallo con lo scheletro del cagnolino c'è lo scheletro del cavaliere del cavallo del cagnolino è un effetto intanto esorto colleghi studiosi e loro amici andare a vedere questa testimonianza archeologica necrologica addirittura perché ci sono i c'è il cadavere eccetera di un longobardo o bulgaro che sia in presenza effettiva e mi dicono che il programma di esplorazione di tutta la necropoli è ancora ferma e ci aspettiamo da lì che emergano oggetti anche se noti la staffa vedere una lo scheletro di un cavallo con la staffa eccetera è impressionante questa è in una saletta quindi un solo pezzo l'immenso se si tirasse fuori tutto quello che c'è nella nella necropoli sarebbe un punto di riferimento etnografico di varia importanza e anche onomastico non lo so delle determinologie c'è anche dicevo il cagnolino che seguiva questo bulgaro longobardo che sia nelle sue avventure altre ricerche non ho fatto pensieri sì e rosanna mi scuso poi non gliel'ho più mandato ho ripubblicato lo studio del 62 63 attura di domenico proietti e di marcello rotili ho qui questo estratto vediamo di farlo circolare mi affido anche a domenico perché ne mandi un po credo che a benevento ne abbiano ancora un po scusami francesco se posso è in rete come pdf nelle meti medievali quindi al di là del cartaceo che è bello eccetera ma è scaricabile su reti medievali benissimo allora per favore distribuisci quell'indicazione dove si può trovare eh ci sono c'è anche qualche elemento di aggiornamento e quindi è bene averlo eh ulteriori riflessioni sono andate in direzione della storia della parola pizza e su questo binario aggiungo altre riflessioni oggi ehm insomma qui c'è da verificare se l'ipotesi della forma pizza come pronuncia Longobarda della parola pitta eh è confermabile valida o o no eh tutti gli elementi farebbero pensare di sì meno uno che la prima attestazione a questo non significa molto eh è a Napoli quindi zona bizantina tuttavia la la spiegazione è questa che comanda il compratore eh e non il venditore quindi ipotizzando e scherzando su questa storia i Longobardi che andavano a chiedere la pizza a Napoli hanno imposto la forma eh con la seconda rotazione consonantica alla forma eh italico greca pitta eh tutte le indagini successive su questa tesi sono benvenuta sia che la confermino sia che la smentiscano però su questa strada e tanto ci potrebbe essere un secondo caso ne parlavo con Nicola De Blasi ieri e l'altro ieri un altro prodotto tipicamente napoletano che ha una probabile origine etimologia Longobarda è struffoli se è vero che viene da a strofinare strofinare strof strof quindi parola germanica che indica lo strofinaccio il cencio quindi qualcosa ma cencio non è certo di origine Longobarda eh sarebbe il secondo caso mi diceva però Nicola che la circolazione della parola strofoli a Napoli è molto molto tarda va bene ma potrebbe questa eh forma se è longobardizzata si può ritenere potrebbe essere stata conservata nell'entroterra anche a grande distanza verso l'Abruzzo eh a distanza da Napoli e poi arrivata magari nel sei settecento la cosa con il nome eh riemerge eh riemerge un nome germanico a Napoli anziché altrove e un sarebbe il secondo caso rispetto a pizza ci credo poco perché si tratta anche di ancora da etimologizzare la parola stessa ma questo mi fa pensare che piuttosto ci sia da indagare su quelli che furono i rapporti tra i longobardi e i napoletani io non so se ci sono indagini che riguardano scambi commerci soprattutto eh matrimoni spostamenti di popolazione dall'entroterra su Napoli e quindi penetrazione di oggetti cose tradizioni termini dell'entroterra a longobardo diciamo beneventano cioè insomma ci sono tre poli di cui due sono fondamentali per la storia longobarda e per le diffusioni del Benevento e Salerno e l'altro è Napoli il caposaldo bizantino e poi autonomo lo si intende ecco indagare sui rapporti tra questi tre poli tra ottavo nono undicesimo secolo quando poi le cose con i normanni cominciano a cambiare quindi Napoli prende eh l'avvio di caposaldo di tutto il centro di tutta la la parte meridionale quali erano i rapporti gli scambi i matrimoni perché in questo modo l'onomastica penetrava di quattro l'area interna e della costa salernitana longobarda per non parlare di capo naturalmente e questa questa enclave bizantina che era eh Napoli e Gaeta non di più eh non so se ci sono in corso studi sugli scambi tra entroterra e costa che dovrebbero essere essenziali data la vitalità dell'entroterra prima la vitalità della fascia costiera dopo che rapporti c'erano nell'ottica degli scambi altomedievali perché poi quello che avviene dal duecento trecento quattrocento in poi è tutt'altra storia ma quando c'era la separazione area bizantina area longobarda che avveniva tra l'entroterra e la la fascia costiera lo stesso tema si presenterebbe per la costa barese ma lì il dominio bizantino eh a meno rilievo che non a Napoli almeno credo quindi una linea di ricerca piuttosto sulla dialettica area napoletana area salernitano beneventana nel tra il più indietro possibile non so che le testimonianze ci siano per il settimo ottavo sesto settimo ottavo secolo ma dopo forse la documentazione dei le varie raccolte di carte ci potrebbe dire in questa direzione questa mi sembra una direzione di ricerca promettente per vedere se prevaleva una sbarco dall'interno verso eh la costa napoletana o napoletaneggiante o invece una diffusione dei napoletani all'interno l'onomastica per esempio potrebbe dirci qualcosa in proposito questa come possibile linea di ricerca ancora promettente oggi e intorno più che altro al polo Napoli Benevento Salerno Capua nell'entroterra tornare a riflettere sempre utile si intende sulla tradizione giuridica Longobarda che ci ha donato poi le formule eh Capuane Saurunca e Teano è sempre utile e qui passo la parola e la palla a Domenico che è ritornato su questi argomenti e beh certamente nel decimo secolo queste questi caposaldi Longobardi nell'entroterra erano vivi produttivi e operativi quindi forse c'è da indagare di più magari sempre attraverso l'onomastica l'impressione che ho è che l'onomastica dell'entroterra fosse fortemente dominata dall'elemento germanico sovrapposi per moda questo non per sangue e altre cose del genere ma un quadro dell'onomastica dai movimenti nell'ambito onomastico sarebbe forse ancora da da produrre queste le linee di riflessione per ora quelle che ogni tanto quando mi metto a fantasticare sul mio stesso passato dico ma forse in questa direzione un bel giorno vedrò apparire qualche studio che o gli archeologi che si decidono a scavare meglio e a tirar fuori quello che hanno già visto in intravisto o ricerche toponomastiche ulteriori per carità mi auguro che ci sia il triplo di quello che ho trovato quindi non credo di aver esaudito ma sulla scala al 25 mila c'è quasi tutto quello che si poteva raccogliere magari qualche testimonianza di carte antiche che non è più evidente sul terreno ma il quadro c'è e dimostra questo posso dirlo perché lo avete confermato voi e l'insediamento la presenza l'impronta se non altro dovuto alla dominazione a longobarda per l'assetto territoriale e le denominazioni eccetera è stato fortissimo tra la parte meridionale del ducato di spoleto e la parte settentrionale del ducato di benevento marche abruzzo molise erano fortemente presidiate dai longobardi il che non meraviglia perché tra l'altro non si tratta di migliaia e migliaia di longobardi si erano spopolate in presidenza quindi la percentuale da rapportare al numero totale di popolazione erano aree ormai disabitate quindi bastava un nucleo di otto longobardi dieci longobardi e lasciavano un'impronta precisa sul terreno queste le riflessioni come vedete sparse non sistematiche appoggiate a impressioni più che a dati nuovi qualche parola nuova qualche precisazione su elementi del lessico dopo dei miei studi è venuta la nota di Mastrelli su Zeppa che parola tipicamente abruzzese longobarda eccetera va bene è chiaro che le attività collegate al legno ci hanno regalato questa conferma questo dato preciso che per spaccare un tronco si si guardava come facevano i longobardi insomma e altro non ho da un altro elemento che va preso però già noto e documentato da altri e da me eh il finaita che ingloba in sé l'elemento longobardo snaidan signaida signum finis è un conglomerato di di radici latine e germaniche che ha dato questo strano elemento corografico le finaita che i segnali di confine eccetera è bellissima la storia di questa parola che infonde appunto più parole di come tipicamente avviene nella fantasia e nella competenza linguistica delle persone eh comuni eh diciamo sì il signum eh il finis e la parola longobarda eh tacca gli alberi per indicare la il confine si ha regalato una parola nuova la finaita non so se più viva o ormai è soltanto una parola morta ma è diffusissima e che si trasmette in documenti basso medievali ancora a lungo questi sono i dati che sui quali mi è capitato di riflettere dopo il mio lavoro quindi rapporti entroterra costa costa andate a fondo affidate a giovani ricerche su eh onomastica eh etnografia eccetera in appoggio all'eventuale scambio di oggetto di prodotto e parola intorno a pizza ed eventualmente ma con molti più dubbi a struffoli e poi eh queste eh la sorte che hanno avuto alcune parole tipiche da una parte eh la storia di pizza ormai è abbastanza chiara eh zeppa eh e qualche altro elemento che può emergere da nuove ricerche ma io non ho elementi in proposito e gli archeologi si diano da fare fuori dalla terra con quanti più oggetti possibili perché non è è strano che un insediamento del così fitto non abbia lasciato altre tracce sì l'elmo di Rocca Scalegna è uno di quei cimeli eh fantastici ma sembrerebbe più il gotico che il longobardo sono comunque sempre scontri tra germani in arrivo e bizantini o romani preesistenti questo c'è da c'è un ultimo caso che mi piace ricordare ma è un po' di fantasia sulle montagne non lontane da casa mia per scocostanza di fronte eh c'è il luogo famoso per l'archeologia italico-romana di ehm eh in questo momento mi non mi mi insomma di di fronte c'è Iuvanum eh c'è un bellissimo sito archeologico italico romano c'è un foro romano pieno di iscrizioni sulle basole su eh c'è un piccolo museo che raccoglie altre bene questo luogo subisce la distruzione e viene disabitato nei secoli di avanzata dei longobardi di arrivo o forse già con i goti ma forse di più con quando i longobardi nelle valli dell'Aventino eccetera prendono piede eh questo centro Iuvanum decade totalmente viene abbandonato ci sono tracce di incendio sono stati trovati dei gioielli quindi abbandonati dalle eh dalla popolazione in fuga e questo hanno detto alcuni archeologi che storici dell'arte che si sono occupati eh del sito beh eh riflettere un po' su come si si erano dapprima rifugiati certamente la popolazione latina romana su questi luoghi d'altura poi a un certo punto cedono i longobardi o i goti dal fondo valle del Sangro e dell'Aventino questi torrenti e fiumicelli che sono lì eh siamo non lontani da dal luogo dove è stato trovato l'elmo di Rocca Scalegna di sì di Rocca Scalegna ehm arrivano fino in cima e c'è l'abbandono anche di queste posizioni di altura legato alla penetrazione e affermazione dei dominatori longobardi prima che questi diventassero poi i padroni e i reggitori di questo territorio. Vi ringrazio per la pazienza intanto per l'invito a Rosanna che mi fa tirar fuori queste riflessioni che mi capitano nei momenti più vari magari quando vado a fare passeggiate in quei luoghi mi soffermo eh a meditare a guardare da dove potevano essere entrati da dove erano passati come si muoveva la popolazione ma sono piccole divagazioni e passeggiate montane più che ricerche. Vi esorto alle storie grazie Rosanna grazie carissimi amici tutti. Grazie a te Francesco grazie a te questa tua esortazione ci piace tantissimo e io direi facciamo adesso la discussione perché Haubricks continua purtroppo a non riuscire a collegarsi facciamo adesso la discussione su questo intervento di Francesco Sabatini e poi se Haubricks ancora non riesce a collegarsi direi che si potrebbe passare a Elda. Posso aggiungere una cosa che ho dimenticato nel settore degli allevamenti bovini questi meritano molta attenzione. Si sa che la mucca podolica ha seguito i Longobarni. Ora nella zona del Molise non lontano da Boiano dove è stata trovata questa necropoli molto promettente eccetera è zona di allevamenti e di produzione eccetera. L'altro caso da approfondire è quello degli altipiani di Pesco Costanza e revisione di una grande distesa di altipiani dove l'allevamento bovino è stato fondamentale intenso fino ad oggi mentre la pecora era un po' dappertutto il pascolo di montagna eccetera. Questi altipiani avevano era una mia ipotesi confermata poi dal ritrovamento di una piccola necropoli di 7-8 tombe con oggetti i Longobardi dell'ottavo nono secolo. Quindi allevamenti bovini, grandi distezze di altipiani, novità rispetto allo sfruttamento di epoca italica romana quando era la pecora che dominava dappertutto, non l'allevamento bovino. Se è vero che altrove, questo è vero anche perché lo dice Paolo Diacono. I Longobardi portarono con sé la mucca codolica e quindi erano legati a questo animale che era più facile far allevare, custodire eccetera. Un altro grande epicentro di zootecnia bovina sono gli altipiani. C'è una piccola necropoli in Longobardi a approfondire questo settore dello sfruttamento economico e dei piccoli insediamenti. Tra l'altro questo piccolo necropoli è in una collina che viene chiamata in dialetto Collereina, Colle della Regina. è questa immagine di un personaggio dominatore, dominatrice in questo caso, forse legato a questo. Sono state trovate tombe con oggetti femminili. Longobardi questi non c'è tombe. Grazie, grazie. Grazie Francesco. Allora possiamo discutere questo intervento. Io mi permetterei di fare subito una considerazione su alcuni punti che ha toccato Francesco e sono d'accordissimo con te Francesco sull'importanza di cercare forme di osmosi e di scambio che sono riflesse non solo nell'antroponomastica ma molto nell'antroponomastica tra area bizantina e area longobarda perché questa frontiera bizantino-longobarda probabilmente non era per niente una frontiera rigida come in tante altre realtà delle fasi cronologiche della penisola italiana di cui ci occupiamo e ti posso dire che sono tanto in sintonia con quello che tu hai detto sulla necessità di trovare indizi e prove di questi scambi, di queste interpenetrazioni che ti dico che da alcuni anni è una delle cose che stiamo facendo nel nostro gruppo di ricerca. Non abbiamo ancora pubblicato i risultati ma lo faremo presto e io credo che tu hai perfettamente ragione. Ancora una volta hai colpito un punto cruciale è là che bisogna cercare tante cose che apparentemente non tornano. Faccio un esempio Amalfitani, napoletani soprattutto, di Gaeta so di meno ma di Amalfi e di Napoli lo posso dire erano un po' i corrieri espresso di quel mondo. I longobardi amavano moltissimo le sete, gli oggetti preziosi che venivano dall'Oriente, anche loro erano incantati dal lusso delle terre bizantine. Napoletani e Amalfitani gliele andavano a prendere e ci sono documenti storici che attestano questo. Per non parlare di un altro aspetto fondamentale come per esempio il culto delle reliquie, un santo che è importantissimo in Sicilia e alle isole Lipari, San Bartolomeo, gli Amalfitani su richiesta di signori longobardi vanno a prendere le reliquie di San Bartolomeo a Lipari e le portano a Benevento. Allora è chiaro che quello che tu hai disegnato come scenario di questa interpenetrazione tra bizantini e longobardi trova conferme in eventi storici, ma trova molte conferme in aspetti linguistici. Ci sono molti dati che lo dimostrano, speriamo di pubblicarli presto. Bene, bene, è vero. Gli scambi, non mi ha detto che si facessero guerra assoluta, totale. Dopo la guerra arrivavano gli scambi, le fusioni, quindi onomastica, oggetti, sete, cibo, reliquie. Emozzarene. Eida, vedo che Eida... Sì, Francesco, io sapevo che oggi uno dei miei... era per me difficilissimo parlare dopo di te, perché è difficile dire qualche cosa che tu non abbia già detto, che tu non abbia già... e questa questione del rapporto tra i bizantini, se mi consentite, era una cosa che io pensavo di dire in coda al mio intervento di oggi, quindi mi fa molto piacere che tu l'abbia menzionato, perché sicuramente io non ho ovviamente le competenze per poter affrontare la questione dei rapporti linguistici tra Longobardi e bizantini, però mi ha colpito, nelle letture che io sono andata facendo negli anni, questa continua menzione del rapporto tra Longobardi e bizantini, tra popolazioni germaniche e popolazioni bizantine. Io le sto raccogliendo anche se non in maniera sistematica, per esempio Lidia Capo in un contributo poi di qualche anno fa intitolato Un regno per l'Italia, raccontava, appunto, sottolineava come in realtà ci sono stati sicuramente rapporti commerciali, culturali, devozionali tra popolazioni Longobardi e popolazioni e popolazione bizantina. Abbiamo poi anche molti esempi che sono stati già evidenziati di vocaboli, tu hai ricordato Sinaida, ma tu stesso nel 1963 avevi raccontato la storia di Barba Barbane, di Gio, che è un altro esempio di influssi fra lingue germaniche, lingue e greco e Longobardo. Abbiamo l'esempio per esempio anche di Sculca, che è stato discusso anche da Castellani, dove ugualmente c'è un'interferenza fra greco-bizzantino e germanico. C'è il caso di Bando e devo dire che io avevo preparato una slide nella quale avevo elencato anche i lavori di Johannes Kramer, perché Kramer più di una volta si è occupato di parole germaniche che sono state, come dire, diffuse anche attraverso i greci e viceversa, quindi di questo osmosi fra greco-bizzantino, goti e Longobardi. Ci sono diversi segnali, però ormai, voglio dire, sono sempre un po' così a macchia di leopardo, quindi mi fa piacere anche sentire che invece il gruppo di Rosanna si sta occupando in maniera sistematica di questo, che a mio avviso è un aspetto molto importante nello studio di quel periodo. E quindi mi fa piacere che tu anche abbia sottolineato e abbia evidenziato questa realtà complessa e polifonica di questo periodo. Grazie. Scusa, sempre qualcosa che aggiungo ripensata. Ho parlato degli allevamenti bovini, ma i bufali, le pianure del Salernitano, ma questo allevamento di questi animali parenti delle mucche podoliche, non ne so niente della stirpe dei bufali, ma questo non c'era all'epoca romana, non è di tradizione greca. ma questi allevamenti di questo tipo nelle zone tipicamente longobarde, la piana di Salerno era in mano a loro, eccetera. Andare un po' più a fondo in questi settori che non sono quelli propriamente linguistici, ma quelli etnografici, economici e di costume. Bene, vedo la mano alzata di Federico Albano. Federico? Eccomi. Beh, Francesco, grazie. Tu, come tutti i grandi maestri, sei sempre all'avanguardia. Perché le cose che tu hai detto ora, così, come un passant, un po' di archeologia, sono le questioni cruciali, non soltanto della longobardistica meridionale o italiana, ma della storia linguistica e sociale generale dell'Italia. E quindi quello che tu ci indichi è esattamente quello che gli istituzioni, giovani o meno giovani, dovrebbero fare. Io volevo fare una piccola osservazione. Tra le cose che sono interessanti da studiare, perché concorrono a formare il quadro, sono gli aspetti demografici. Io questi aspetti demografici li ho sfiorati, perché non erano tutte le mie competenze, ma li ho sfiorati quando cercai, e scrissi anche un articoletto, quando cercai di capire, fare delle ipotesi su quando il longobardo aveva cessato di essere parlato. Io, a differenza di altri ben contorevoli di me, come Bruckner, sono per una scomparsa precoce del longobardo e avevo vari argomenti. Io penso che all'epoca dell'editto di Rotary, che i longobardi fossero già, non soltanto in gran parte, o tutti bilingui, ma che fosse un bilinguismo zotto, cioè fosse ormai prevalentemente latino, italoponi. Uno degli elementi che mi induceva a questa conclusione erano appunto i dati demografici che si potevano ricavare, per esempio, dalle analisi che oggi si possono fare, dei reperti fossili nelle necropoli. Non soltanto nelle necropoli in Italia, ma in necropoli anche più antiche, necropoli longobarde in pannonia, cioè precedenti l'ingresso dei longobardi in Italia. Ebbene, i risultati delle analisi su queste necropoli mostrano che anche allora i gruppi che noi chiamiamo longobardi e che si muovevano, che arrivarono poi in Italia, erano già gruppi largamente misti di popolazioni eterogenee, non solo, ma erano già presenti tracce di matrimoni misti longobardo latino, già in pannonia. Schiavi, schiave o coloni latini che per qualche motivo sono là e che sono già presenti nelle necropoli longobarde. Questo dato, qualche cosa me la confermò anche anni dopo, Marcello Rotili, che io penso sia stato un grande archeologo della longobardi a Milo, che anche nelle necropoli italiane, questo dato era molto evidente. Questo per dire che, tu dicevi, sì, i longobardi erano piccoli gruppi, anche otto, dieci, arrivavano in un territorio deserto e lasciavano un segno. Ma per deserto che fosse? Questo magari a distanza di qualche chilometro. C'erano comunque delle comunità latine, romanze, oppure più giù bizantine, con le quali i rapporti sono sempre stati da subito capillari, streppi, di collaborazione, di intreccio, di matrimoni misti, di scambi linguistici, molto precocemente. Per cui la chiave della demografia è una di quelle che aiuta a capire, aiuta per carità, non è che lì sia la soluzione di tutto, ma aiuta a capire questo intreccio formidabile fra etnie, lingue, comunità diverse che poi dà luogo alla nostra Italia meridionale e che più in grande dà luogo all'Europa carolingia, perché questa è la storia dell'Europa carolingia, quella che noi stiamo tracciando. Due piccole osservazioni. Le vacche podoliche sono una razza bellissima, pregiata. Io le ho conosciute in Basilicata. È una razza rustica, molto resistente, non dà tantissimo latte, quindi per esempio i produttori di parmigiano non sono interessati alla podolica, ma questo latte è molto buono e viene tirato fuori un formaggio, un caciocavallo podolico, che è la quinta essenza della bontà nell'ambito dei caciocavalli. E poi un'altra piccola osservazione, sempre nell'ambito gastronome, i struffoli. Io non lo so se la parola struffolo è di origine longobarda, so però per certo che lo struffolo appartiene a una famiglia di dolci profondamente mediterranei, che tu trovi dall'Italia meridionale alla Grecia, alla Turchia, al mondo arabo, sono dolci fatti di un impasto di farina e uovo fritto, come le frappe, a schiacchiere, la stessa pasta, e legato con il miele. Questo è un dolce mediterraneo, un dolce del Mediterraneo orientale. Di questo io sono sicuro. Che sia anche un nome longobardo non lo so dire. Io confesso, tanti anni fa discutevo un poco anche con Alberto Mastrelli di questo, che sono un po' scettico nel mettere in area longobarda quello di cui non si riesce a trovare un'altra soluzione. Per cui il longobardo diventa un po', per rimanere in ambito meridionale, la sporta del tarallaro. Cioè quello che tu non sai dove mettere, lo metti tra i longobardini. Mastrelli, che era uno di quelli che ricorreva ai longobardismi per spiegare cose che non si capivano, altrimenti, un po' mi dava ragione. Perché effettivamente, siccome non si può né falsificare, né verificare, metterlo lì non dà fastidio. Io per questo ho una sorta di scetticismo a priori nei confronti dei longobardismi lessicali. Quando poi c'è anche un supporto materiale, cioè la natura dell'oggetto, in quel caso lo struppo, che io conosco bene, il mio scetticismo si accentua. Grazie. Un commento immediato se Rosanna mi dà la parola. Ma siamo tutti d'accordo che bisogna distinguere la parola dalla cosa. E resta il caso di pizza. Nessuno può mettere in dubbio che l'oggetto, questo tipo di confezione, eccetera, venga dalla Mesopotamia, dalle zone dove si produceva farina e si faceva questa schiacciata sui mattoni, sulle pietre, eccetera. Poi tutta l'area di pitta è talmente vasta che l'oggetto viene da lì. Ma la frontiera longobardo-bizzantina e quindi mediterranea che si crea in Campania può aver influito in questo caso non sulla creazione della parola, ma sulla deformazione. se è accettabile questa tesi. Lo stesso può essere avvenuto agli estruffoli. Per carità, la pasta, il miele, le tradizioni sono tutte quelle che hai detto tu. Il compratore gli dà un nome particolare e il venditore cede sul fronte della parola. Questo io l'ho osservato in un caso molto semplice, eccetera. in Abruzzo i gnocchetti piccoli si sono sempre chiamati i surgitiei, i sorcetti. Gli gnocchi si chiamano surgi e quelli piccoli piccoli i sorcetti. Da quando i turisti napoletani hanno invaso queste località di turismo preferito dei napoletani e hanno introdotto il termine cazzariei, i cazzarelli, i venditori hanno immediatamente cambiato termine e loro usano anche cazzarelli. Ma come i surgitiei di una volta? Ah, sì, mia nonna li chiamava così. È un esempio tra gli altri. Il compratore dà il nome e il venditore accetta il nome pur di vendergli il prodotto. È uno schema di ragionamento. Non lo so se date nel presente naturalmente. Ma l'oggetto la materia eccetera ha l'origine che ha. Su questo non c'è dubbio. Francesco, mi dichiaro tusce. Il tuo argomento è formidabile. Grazie. E c'è ancora Nicola Busino che vuole intervenire. Nicola? Sì, grazie. Buonasera a tutti naturalmente. Grazie per questa possibilità. Grazie al professor Sabatini che io da archeologo insomma come dire i suoi riflessi linguistici sono stati proprio il il va de me la guida con cui insomma abbiamo fatto lunghe passeggiate alla ricerca di questi riscontri materiali alla toponomastica Longobarda. io volevo dire due cose sostanzialmente la prima è che naturalmente in generale almeno questo è quello che abbiamo constatato sostanzialmente per capo è il suo territorio in queste ricerche insomma di questi anni che la visibilità diciamo di questa di questi degli insediamenti insomma attribuibili a nono secolo decimo secolo è alquanto problematica nel senso che la come dire la materialità che possiamo collegare a questi insediamenti risulta essere alquanto sfuggente e lo è tanto più all'interno dei centri urbani cioè attualmente per esempio questo livello alto medievale questo livello iniziale della città di Capua sul Volturno è dal punto di vista proprio delle attestazioni materiali ancora imposto estremamente complesso estremamente sfuggente insomma la seconda cosa che volevo dire è che a proposito quindi grazie anche di aver ribadito questo legame tra come dire il mondo Longobardo e il mondo bizantino è stata cioè questo legame diciamo è stato evidenziato dallo studio che insieme a Domenico Proietti insieme anche ad Antonio Salerno abbiamo rifatto di questa epigrafe di Arniperga ovvero la moglie diciamo del 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 conte Landone afferente a questo insediamento di Sicopoli in realtà forse insomma ci persuadeva un altro tipo di riflessione però al di là diciamo della collocazione di questo manufatto la cosa interessante è che naturalmente Arniperga è la moglie di un conte Longobardo ed è la figlia del prefetto di Amalfi per cui insomma rappresenta una prova una di queste come dire di questi elementi istituzionali a scavalco che legava naturalmente un'area squisitamente bizantina come Amalfi ed un'area potentemente Longobarda poi soprattutto insomma che ha un ruolo fondamentale diciamo a partire dal nono secolo appunto riguardo a capo insomma nelle vicende diciamo della storia Longobarda del nono secolo post fine della Longobardia Major ecco tutto qua grazie grazie vedo che ci sono altri due interventi e dopodiché purtroppo debbo chiudere perché cominciamo ad essere un po' in ritardo c'è un intervento di Maria Rita Battaglia e poi Maria Francesca Giuliani benissimo io da scolara della scuola vaticana di paleografia latina e grega con reminiscenze amatissime attualmente insegnante vado alla ricerca a volte di soluzioni spinose siccome qui siamo veramente con il gota degli studi sull'argomento mi permetto di lanciare una domanda ci sono dei formulari giuridici longobardi che ci esprimano più o meno così secondo l'uso della nostra razza nella zona di Arienzo che diciamo è il confine tra Caserta e Benevento tutto sommato nel dialetto si sente dire un'espressione che è quasi un calco linguistico aus la razza nostra quindi si va dal latino del formulario longobardo all'espressione dialettale che è praticamente un calco io volevo sapere qualcosa di più sull'argomento se è possibile o anche ecco questa era la mia domanda spero di essermi spiegata questo è quanto grazie sempre ringrazio il professore Sabatini che è un onore e un piacere ascoltare sempre intervengo subito razza ha tutta un'altra storia ormai chiara la parola è arrivata o con i normanni o comunque con gli angioini riferita agli allevamenti dei cavalli quindi prima non esisteva prima la parola è germanica di origine lontanissima poi francese l'hanno portata o i normanni o forse meglio gli angioini per cui gli impianti di allevamenti di cavalli si chiamavano razze nelle pianure della Campania della Puglia eccetera le arazie razze erano proprio duecentesche pienamente attestate quindi la parola entra per via di allevamenti e non dall'italiano ok ma la compresenza del cioè a uso della nostra stirpe praticamente questo uso del formulario giuridico per intestare per indicare la legge no la legge tribale che poi rimane nel dialetto quindi il rapporto tra il nostro gruppo la parola razza purtroppo prende connotati scadenti per ragioni storiche spaventose ma nel senso originale quello che ancora non aveva colpe diciamo è stato indicato il gruppo cioè secondo le nostre usanze secondo le nostre leggi in altre parole io volevo sapere cosa può aver acquistato tutti gli altri significati ma il passaggio dagli animali agli uomini è attestato già i primi del quattro no metà del trecento a Napoli già ho nelle lettere napoletane di metà del trecento addirittura un fiorentino che usa la parola razza riferito alla famiglia un acciaioli per di più quindi la parola immediatamente è passata dagli allevamenti a classificare uno strato sociale umano e questo è rimasto nella lingua della razza mia della razza tua senza sapere che si risale agli stalloni e agli impianti di allevamento dei cavalli ok allora grazie prima di dare la parola a Maria Francesca Giuliani vorrei salutare il professor Aubrich che finalmente è con noi è riuscito a collegarsi benvenuto professore grazie di essere con noi tra poco avremo il piacere di ascoltarla allora adesso Maria Francesca per favore se vuoi intervenire sì sì mi sentite mi sentite innanzitutto è una profonda emozione per me poter parlare con il professor Sabatini su argomenti che ho letto nei suoi testi con grande interesse e che suscitano per me un grande entusiasmo dunque nel mio piccolo mi sono occupata di Snaida e delle sue trasformazioni e quindi sono totalmente d'accordo con quello che ha detto e sull'importanza ribadita anche dalla professoressa Morlicchio dei rapporti di acculturazione delle contaminazioni cioè dell'importanza di capire il modo in cui in lungo parte viene recepito e trasformato sono d'accordo profondamente anche sull'importanza del dialogo con gli archeologi e gli storici ecco da Pugliese nello studiare diciamo testi nei tempi in cui ho arrivato alla mia testa di dottorato e anche successivamente ho sempre apprezzato tantissimo gli studi di Jean-Marie Marten e per esempio ritengo che Jean-Marie Marten abbia scritto cose di grandissimo valore sulla distribuzione di sculca nel territorio pugliese in corrispondenza del cosiddetto limite e sono riflessioni quelle di Jean-Marie Marten che sono ancora da mettere a frutto da parte di linguistica quindi senz'altro diciamo ribadisco l'importanza degli argomenti relativi diciamo all'insediamento alla demografia alla referente diciamo il referente la ricerca del referente che è ben messa a tutto gli argomenti e gli storici è fondamentale però il risultato di Sabatini c'è un dubbio fondamentale come linguisti ci dobbiamo arrendere cioè c'è una possibilità di recuperare qualcosa della permanenza longoparta o di quello che è diventata la permanenza longoparta o l'identità longoparta nel sud e nel centro sud attraverso la parola e non soltanto attraverso diciamo gli elementi dialettologici ma per esempio come possiamo utilizzare le fonti tra tutte le fonti napoletane per cui mancano gli originali un dubbio che forse tutti quanti abbiamo e che lei abbia a un certo punto sospeso interrotto i suoi studi degli anni 60 di fronte alla difficoltà posta dalle fonti possiamo comunque utilizzare con fiducia fonti di cui non disponiamo gli originali qual è il suo parere improposito? questo che mi chiama in causa rispondo velocemente per lasciare spazio agli altri le fonti cartacee ormai sono state spulciate tutte non è che io mi sia fermato perché mi sembrava che fosse esaurito il campo è che bisognava passare ad altri campi archeologici etnografici e anche lessicali come infatti qualche elemento è comparso anche dopo ormai sul terreno dei toponimi c'era tutto l'antroponimia e beh quella è un terreno ancora tutto da considerare con altri criteri a proposito degli antroponimi germanici rimasti a lungo cito il caso di quel documento amalfitano quindi zona bizantina del 1288 90 la scritta amalficana di quella monaca che dava gli soldi a prestito bravissima nel campo pecuniario è Gattegrima siamo alla fine del 200 questa monaca si chiama Gattegrima ad Amalfi beh è chiaro che il polo di diffusione di questi antroponimi era Salerno ecco indagare nella onomastica nei prodotti nell'economia nelle tradizioni dove si conserva anonimamente l'influsso apportato da altri popoli bene grazie grazie e adesso l'ultimo intervento è quello di Domenico di Domenico Proietti Domenico telegrafico solo per aggiungere un'altra malefatta tra Nicola Busino e me cioè stiamo mettendo su ed è in fase di avanzata realizzazione e lo dico con grosso conforto rispetto a quello che ha detto Francesco una base dati topo onomastica sui documenti capuani dal nono all'undicesimo secolo è già stata schedata la parte nono decimo secolo cioè i documenti mazzoleni bova le pergamene della della cattedrale di capua dell'archivio di capua e abbiamo chiamato questa iniziativa Litore Liburie topo onomasticum repertorium repertorio topo onomastico di terra di lavoro quindi queste due parole Francesco per noi sono una benedizione significa che stiamo andando in una direzione che tu ci dici che è quella buona quindi siamo molto contenti l'avevo già detto in questa sede ma mi faceva piacere dirlo davanti a te grazie bravo bravo beh ci voleva molta spinta per eliminare tutta l'onomastica latino-greca quindi evidentemente il prestigio dell'agente longobarda aveva vinto sulla tradizione onomastica latino-greca bene allora grazie grazie ancora Francesco come vedi le cose che ci hai detto hanno stimolato molte molte riflessioni ci hanno dato fiducia in piste di ricerca che in vari di noi stiamo conducendo ed è sempre un grande grandissimo piacere ascoltarti grazie grazie a tutti coloro che sono intervenuti e adesso passo la parola a Federico che presiede per la relazione del professor haubricks buongiorno allora tocca a me dunque a me tocca l'onore certamente immeritato di presentare il professor haubricks è un onore perché il professor haubricks è un grande germanista nel senso classico della parola è stato come etichetta accademica è stato professore della elterge germanistica cioè della lingua e letteratura tedesche medievali essenzialmente in cui ha dato contributi molto importanti sia per quanto riguarda la letteratura che ha studiato autori come Gottfried von Weissen Wolfram von Eschenbach cioè si è confrontato con i pilastri con alcuni pilastri della letteratura tedesca medievale sia dal punto di vista linguistico dal punto di vista linguistico il professor haubricks si è dedicato molto a un problema di cui stiamo parlando dei rapporti tra il mondo germanico e il mondo romanzo forse essendo lui di Saabrucken e avendo passato gran parte della sua vita accademica alla Universität des Haalanders lui aveva un osservatorio in cui il rapporto tra mondo germanico e mondo romanzo era proprio a portata di mano faceva parte forse della sua vita quotidiana e in questo settore lui ha dato contributi molto importanti come studioso e anche come organizzatore e direttore di progetti su onomastica germanico romanza su problemi dei confini della definizione dei confini linguistici naturalmente e culturali tra mondi germanico e romanzo diversi io non ho avuto mai la fortuna di conoscerlo personalmente però io lo conosco indirettamente dal 1970 perché lui è stato il fondatore e anche il direttore di una rivista che ha avuto un'enorme diffusione successo che si chiamava con un nome bellissimo Lili ma questo Lili era una cronica era Zeitschrift für Literatur Wissenschaft und Linguistik a me questo titolo mi piacque moltissimo e mi piacque anche molto il fatto che i fondatori e gli editori avessero scelto anziché il minaccioso Schraff Wissenschaft che fa pensare a tante cose anche pesanti avessero scelto questo termine più leggero ma che negli anni 70 sembrava anche più moderno più vicino al senso comune dei linguisti che parlavano di linguistica e la linguistica stava diventando un europeismo anzi un mondialismo al posto dei termini tradizionali come appunto Schraff Wissenschaft e quindi io negli anni 70 negli anni 80 meno fino a quando insieme a Elda Morlittio scrivemmo quel libro Introduzione all'ottura della lingua tedesca io sono stato un lettore assiduo di Lili e quindi di questo io lo ringrazio carlosamente e oggi il professor Habrich parla di un tema se non ho capito male dal titolo parte da una questione di dettaglio cioè un'analisi di alcune iscrizioni lungobarde del sesto o settimo secolo e osserva queste iscrizioni ma sempre se non ho capito male dal titolo questo passerà poi a dirci delle considerazioni generali sui rapporti tra i longobardi e gli altri gruppi etnici linguistici e culturali con i quali i longobardi stavano in confronto allora se noi oggi siamo qui riuniti perché ci occupiamo o ci siamo occupati io per la verità come Francesco non me ne ho occupato da molto tempo di longobardo noi ci stiamo di fatto occupando come dicevo prima di un problema centrale nella storia culturale dell'Europa soprattutto dell'Europa che poi sarà carolingue Italia Francia Germania Paesi Bassi essenzialmente e ognuno dei lavori che si fanno in questo settore e in particolare quelli del professor Halbridge sono degli spicchi sono delle piccole lenti di ingrandimento delle zoomate su questioni particolari che però parlano del generale io quindi lo ringrazio molto per aver accettato di intervenire a questo seminario e do la parola a lui buonasera a tutti sono arrivato dopo molte difficoltà ma ho riuscito e prima di tutto voglio ringraziare Rosanna San Nicola da Genio e tutti i responsabili per l'invito a questa bellissima serie di incontri su Longobardi e anche voglio ringraziare per l'introduzione gentile voglio anche ringraziare calorosamente la mia collega Carla Faluoni da Parugia per la traduzione del mio testo comincio con la introduzione nel 568 i Longobardi che fino ad allora avevano vissuto in Moravia Slovacchia e Pannonia abbandonarono i loro insediamenti sotto la pressione degli avari giunti da est e migrarono in Italia sotto la guida del loro re albuino in continua lotta con le forze romano-bizzantine conquistarono gran parte dell'Italia settentrondiale lo testimonia in nome Lombardia e dell'Italia centrale mentre nell'Italia meridionale fondarono solo il Ducato di Benevento a contatto con la maggioranza latino-romanza la minoranza Longobarda costituita da un massimo di centocentacinquanta mila individui subì un processo relativamente rapido di acculturazione specialmente negli ambiti della cultura scritta ambiti estranei a questo gruppo germanico occidentale tale acculturazione ha avuto come conseguenza la produzione di una serie di iscrizioni latine nelle chiese e nelle città espresse principalmente attraverso monumenti funerari ed epitaffi un'edizione critica vera e propria di queste iscrizioni di ambiente Longobardo realizzate tra il VI e l'VIII secolo non esiste ancora molte scoperte anche le nuove sono state pubblicate in raccolte regionali in parte anche in pubblicazioni separate ma soprattutto nei cataloghi delle tante mostre come i Longobardi il futuro dei Longobardi eccetera che da vent'anni si ripetono regolarmente poiché intere regioni si richiamano ai Longobardi come ad un gruppo etnico fondante questa genza germanica gioca ancora oggi penso io come tedesco un ruolo importante nella coscienza storica italiana le iscrizioni latine contengono numerosi nomi germanici prevalentemente Longobardi sono i nomi dei diffunti e dei loro parenti che si preoccupavano di conservarne memoria attraverso la deposizione di lapidi questi nomi sono sparsi ma dal momento che sono stati tramandati in forma originale sono un'ottima fonte per la storia della lingua Longobarda e più in generale per la storia delle lingue germaniche grazie al loro studio unito all'analisi dei termini tecnici Longobardi tramandati principalmente dai testi giuridici e dei prestiti presenti nei dialetti italiani ma anche nella lingua standard vedi trincare balco balcone sala albergo eccetera eccetera si può affiamare con un certa sicurezza che la lingua Longobarda in una situazione sempre più plurilingue si è mantenuta viva all'incirca fino alla fine dell'ottavo secolo alle iscrizioni si affiancano un gran numero di documenti in gran parte soprattutto a Lucca Piacenza Milano e Ravenna tramandati in forma originale è un'opera storica quasi unica e per questo difficile da verificare ciò è la storia Langobadorum dell'erudito e monaco Paolo Diacono e gli stesso di famiglia Longobarda friulana il valore storico linguistico dell'iscrizione è chiaro e dato qui per scontato vorrei invece soffermare l'attenzione sul significato storico culturale dei nomi attestati come fonte di informazione sulla struttura sociale la coscienza e la costruzione dell'identità del popolo Longobardo nel suo periodo più antico ma ora devo fare una brevissima brevissima introduzione al sistema onomastico germanico come preparazione indispensabile per la valutazione storico culturale delle testimonianze onomastiche siamo in un'epoca in cui vige l'uso di un solo nome che si applica anche ai nomi propri latini del primo alto medioevo non ci sono ancora e per molto tempo non ci saranno cognomi nessun prenomen nel latino romanzo e quasi nessun gentilizio esistono tre diversi tipi di nomi propri nel sistema germanico primo i nomi composti da due temi di di tematici ovvero costituiti da due elementi ad esempio Hildebrandt da il diò battaglia più branda spada si vede l'italiano brando questo è un nome parlante dal valore di spada più battaglia cioè un nome per un guerriero che secondo il voler di colui che glielo ha attribuito si deve interpretare come spada da combattimento secondo tipo i nomi brevi formati da un solo tema cioè monotematici che consistono di un elemento lesicale più il suffisso per esempio Hilde di lo da ilgio ancora battaglia più il suffisso diminutivo illo questo nome proprio ha in circa il significato di piccolo combatente i nomi brevi sono meno numerosi dei nomi bitematici terzo i sopranomi cioè appellativi usati nell'onomastica hammma per esempio hammma martello appellativo caratterizzante per un fabbro o un guerriero ad esempio Carlo martello dove è presente il termine romanzo martellus si può notare subito come questi nomi molto più dei nostri oggi fossero fortemente marcati da un punto di vista semantico essi appartengono ad una società guerriera e il vocabolario utilizzato proviene quasi esclusivamente dal mondo della guerra del combattimento delle armi del terrore questo include anche il riferimento ad animali aggressivi come come il lupo l'osso il cinchiale eccetera il mio nome pre-nome Wolfgang non dimenticare altri rimandano al campo semantico della nobiltà dell'onore e della ricchezza i nomi germanici potevano inoltre esprimere anche il rapporto di parentela in molte famiglie era consuetudine variare i nomi degli antinati ad esempio in un testo alto tedesco antico abbiamo il nonno Hildebrandt esercito più spada spada dell'esercito padre Hildebrandt già citato battaglia più spada spada da combattimento e figlio Hildebrandt conflitto più spada spada del conflitto questi nomi di persona si combinano intorno all'elemento costante branda spada mentre varia il primo elemento da notare che tutti mostrano l'iniziale H e quindi la loro sequenza all'interno della famiglia era forzata su alliterazione dal Stabwein come si dice in tedesco con la combinazione dei singoli elementi e suffissi si poteva dare nome a circa 30.000 persone senza dover ripetere nemmeno uno passiamo ora ai nomi stessi per il settimo secolo qui scelto ad esempio abbiamo 115 nomi propri registrati 55 dei quali il 48 per cento attestati in iscrizione per l'ottavo secolo con molte più testimonianze documentali il numero di nomi propri sarebbe stato enorme a differenza di altre regioni della Romagna nella Longobardia vi sono notevoli indizi del mantenimento di tratti ed elementi conservativi propriamente germanici uno di questi elementi è la mancanza della latinizazione delle disinenze che è altrimenti comune in un contesto latino romanzo come adalbertus al posto di adalbert ecco due esempi primo il figlio del re Aghiulfo e della regina Theodelinda Flavius Adu Valt non Valdus rex anno 624 a Pavia e Adi Valt non Valdus Filius in una inscrizione dell'inizio del settimo secolo a Milano secondo Altis non Isus ma Ilusta Castaglius iscrizione dedicatoria fine del settimo secolo a Volterra il 52% dei nomi propri non è attestato in forma latinizata si tratta di un numero sorprendentemente alto rispetto ad altri territori i 115 nomi della lista provengono in gran parte dalla classe dirigente del regno Longobardo dalle famiglie reali poi c'è uno strato diversi illustris duches gastaldi funzionari reggi giudici studieri portatori di spade fondatori di chiese eccetera eccetera l'elenco potrebbe continuare la conservazione del carattere linguistico germanico nel nome si rileva chiaramente anche dalle iscrizioni e va quindi oltre il settimo secolo qualche esempio figura uno per favore allora vedo allora una iscrizione prima metà del nono secolo San Vincenzo al Volturno nel Molise nella sesta riga il nome di tematico Tamfrid assimilato dal germanico Sankfrisu portatori di pace senza esigenza latina e con conservazione del germanico I invece della E omanizzata in Frid e figura due iscrizione settimo secolo da Castelseprio preso Varese l'utilizzo di marmi breggiati per la lapide indica qui che il defunto apparteneva all'apestocazio del Regnum Longopatorum nella terza e quarta riga si trova il nome Vidram dal di tematico germanico Viduraben Corvo del Bosco senza desinenza latina con assimilazione longobarda di BN AMN e con conservazione del germanico I Men in Vid mentre il latino dell'iscrizione mostra ripetutamente l'abbassamento tardolatino di I a E Figura tre per favore una iscrizione frammentaria prima metà dell'ottavo secolo Pavia Chiesa Santa Maria alle Pertiche Vi offro la parafrisi delle sole righe uno a sei di questa iscrizione Ragintruda ricordava sempre con discorsi dei voti ciò che i sui antenati avevano creato negli anni ancora giovanili la morte improvvisamente la strappò via lei che possedeva il drono reggio dalla vita di tutti il soggetto di questa elaborata iscrizione funeraria che sottolinea anche l'attenzione della difunta verso i poveri gli orfani e la regina Ragintruda il nome deriva dal germanico Raginasrud composto da Ragina consiglio divino e Trudi forza potenza si tratta quindi di un nome parlante interpretabile come potere proveniente dal divino consiglio si può anche notare da un punto di vista fonetico la conservazione del germanico Sorn o Siege e l'assenza della metofonia alto tedesca che avrebbe protetta Regin non Ragin dunque un tratto Longobardo figura 4 iscrizione fine dell'ottavo secolo per un monaco di San Vincenzo al Volturno nel Molise il monaco chiede ai lettori di pregare per lui nella seconda riga il nome Erme Causus dal germanico Ermina Gauta nobile sublime Causus da confrontare con Causus il genus del re Longobardo Auduino il nome mostra la mutazione del germanico T ASZ scritto nel Longobardo S secondo un uso tipico dell'ambiente Longobardo e mostra ancora la mutazione del Longobardo tedesca superiore del germanico G AK Si noti come nell'escrizione il nome proprio fosse chiaramente separato in un primo e un secondo elemento Erme Causus e come es finale fosse compressa all'interno della linea per preservare l'integuità del nome particolare che rivela una sensibilità verso la morfologia del nome latino Longobarda e allora figura 5 iscrizione frammentaria settimo secolo peolco preso cianusco provincia milano epitafio dei fondatori della crisi i fratelli aldo e grauso secondo paolo di acono erano nobili bresciani a servizio del re cunin per negli ultimi anni del settimo secolo tradizione italiana qui riposano i due fratelli grauso e aldo esemplari per lignaggio aspetto senno gesta e passione e contraddistinti dalle stesse qualità famoso in tutto il mondo e che la stessa morte racchiute sotto lo stesso marmo i nomi degli fratelli nella quarta riga primo aldo nome breve dal germanico alda anziano venerabile e anche intelligente secondo più importante grauso nome breve dal germanico grauta spavento orore in tedesco grauso quindi un nom de guerre con la mutazione del germanico t a s z scritto nel modo tipicamente abbiamo già visto l'ongobardo con s figura se ben diversa è la situazione tanto per mostrare un esempio di un nome poi romanizzato nell'epitafio di Teudelas splendidamente disposto intorno ad una croce proveniente sempre da San Vicenzo al Volturno e risalente al primo quarto del nono secolo il nome il nome non latinizzato Teudelas dal germanico seuda laica è un composto da seuda popolo e laica danza o danzatore con la mutazione del germanico K nel l'ongobardo C poi romanizzato come S e con la sostituzione romanza del germanico Son o C.H con T e del germanico I con A come nel nome famoso italiano Gary Baldi non Gary Baldi Si noti anche che il nome è stato scolpito nella pietra questa volta senza alcun riguardo per la sua morfologia una consuetudine onomastica praticata soprattutto dalla nobiltà longobarda ancora poco diffusa nel VII secolo ma increscita nell'VIII secolo e costituita dall'ampliamento del primo elemento lesicale di un nome proprio per lo più con L o R ecco alcuni esempi primo il re Agilulfus qui et Agu anno 591 il nome proprio Agu costituisce il nome breve derivato dal germanico Agis terrore mentre la forma altrettanto comune Agilulf dal germanico Agilavulfa cioè lupo del terrore è una forma ampliata con L secondo un epitafio del VII secolo a Benevento chiesa di San Pietro Hic riquieschit Rodel Gisa figlia Arefusi il nome Rodel Gisa è composto dal germanico Rod fama gloria con ampliamento in L Rodel e Gisa bastone freccia i nomi che presentano un tema ampliato attestati anche in Gallia nel territorio franco occidentale potrebbero essere stati usati dall'aristocrazia come nomi da parata che si distinguevano e caratterizzavano rispetto alle forme normali anche già semplicemente dal zono stesso in ogni caso queste forme indicano la necessità della nobiltà Longobarda di distinguersi è probabile che questi nomi da parata abbiano dato al re Cunnipert morto anno 700 l'abbrivio per effettuare un ampliamento ufficiale del suo nome su monete e iscrizioni Cunnipert apparteneva alla cosiddetta dinastia bavarese del regno Longobardo questa famiglia derivata dall'antica famiglia bavarese degli Aguilolfinghi e dei Lettinghi Longobardi salì al potere prima del 590 con la principessa bavarese Teodolinda sposa del re Longobardo Autari questa era la figlia del dux o ex bavarese Garivald Garibald nella linea genealogica principale della sua stirpe si può notare con una caratteristica tipica ovvero la presenza di Valda dominatore come secondo elemento del nome Crodwald Garibald Adalwald eccetera fino a Rodwald morto 653 figlio del re Rotary sposato con un appartenente alla famiglia degli Agilolfinghi vale a dire Gundeperga la figlia di Teodolinda c'era ovviamente un ramo secondario a partire dal fratello di Teodolinda Gunduald il dux di Asti che era venuto con lei in Italia vedi figura 7 per favore è interessante però notare come questo ramo della famiglia di Gunduald adotti nell'uso onomastico per cinque generazioni il secondo elemento Bersta Longobardo Pert brillante famoso illustris due volte Harripert famoso nell'esitacito e con l'inversione Pert Harri due volte Gundeperth famoso nella battaglia poi Godeperth buono e famoso Liudpert famoso nel popolo due volte Raginpert famoso nel consiglio e Cuniperth questo può essere visto solamente come un atto finalizzato attraverso l'onomastica alla creazione di una propria identità e allo stesso tempo di una distinzione genealogica ancora nel anno 688 all'inizio del suo regno Cuniperth portava il suo nome tradizionale ereditato Flavius Cuniperth Rex un nome parlante da ricondurre al germanico Cunia Stirp genere ciò è dal significato di famoso nella Stirp ma poi ebbe un'idea brillante che mise in pratica al più tardi dal 691 si vede l'epitaffio frammentario del re dell'inizio dell'ottavo secolo proveniente dal monastero regio di San Salvatore a Pavia figura 8 questo frammentario carmen sepulcrale che attribuisce grande importanza all'origine regia alla Stirp lo recito qui in una tradizione approssimativa nati da una sorgente dorata giacciono qui ciò è nella chiesa regia di San Salvatore nel giusto ordine i re così il nonno così il padre e ora arriva il figlio degno di pianto Kunink pert re vigoressissimo e potentissimo l'Italia piange questo sovrano come padre e pastore e anche la vedova piange il coniuge ma se chiedi del suo origine il nonno era re la madre aveva il controllo del regno se chiedi di meraviglie la sua figura era amirevile la sua mente devota nella quarta riga dell'epitafio viene evocato Kunink pert florentissimus agropustissimus rex questa forma del nome è presente anche in molte altre testimonianze della sua epoca per esempio Dominus Kunink pert Anconio settimo secolo Domno Kunink pert regi iscrizione della fine del settimo secolo a Volterra eccetera eccetera è chiaro che Kunipat vuole dare al proprio nome dopo la sua ascesa al trono un nuovo significato regale attattandolo a quello di splendente e famoso come un re in altre parole florentissimus si noti inoltre che la linea inizia con il Kunink dell'alto tedesco antico e certamente in modo intenzionale penso io termina con l'equivalente latino rex chiunque volesse parlare qui di pubblicità deliberata probabilmente non avrebbe tutto torto la parola Kunink non è altrimenti mai stata usata come elemento onomastico è un unicum si trattava di un nome cognato per scopi politici un unicum con una pur significativa eccezione vale a dire l'epitafio frammentario della figlia del re figura nove Kunink Berga inizio dell'ottavo secolo proveniente da Sant'Agata in Monte a Pavia dove si trova all'inizio della quarta riga la forma al genitivo Kunink Berge il nome della figlia di Kunink Berge è composto da Kunink re e Bergo protezione il padre le ha dato questo nome significativo e regale variando il proprio nome senza dubbio anche con un intento programmatico passiamo ora a parlare di un peculiare gruppo di iscrizioni quelle dei signori degli anelli come sono stati chiamati sono anelli sigillo d'oro con al centro la figura pelo più babuta di un uomo accomunato da un nome posto interno verso intorno verso la parte più esterna figura dieci per favore sono diffusi in tutta l'italia longobarda con una certa intensità al nord rotchis e ansvaldo attrezzo sul adà a milano ma che badus a milano arricchis a palazzo pignano cremona audo a udine fa olfus a chiusi siena alfred a bagnoreggio viterbo auto e maurizzi a benevento gli anelli sigillo si trovano dunque come corredi funerari anche più a sud educati di chiusi tuscia e benevento e come impronti sigilli di piombo di due duches persino a Roma anzo dux e ifo dux recentemente è stato aggiunto un nuovo anello sigillo proveniente da una collezione privata francese con sopra il nome rhodovalt senza alcuna indicazione di provenienza ma forse correlato ad uno giudex escabinus regio di piacenza nell'anno 626 o 36 quindi senza contare uno appartenuto ad una figura femminile attualmente sono noti in parte indirettamente dodici di questi anelli tutti del sesto settimo secolo secondo gli studi più recenti si ritiene che questi siano anelli di alti funzionari regi ciò è supportato dai due ducces nominati e adesso figlio dodici dalla non improbabile identificazione di Anzualdo con il notaio regio che nell'anno 643 vergò il primo codice di leggi Longobarda l'edictus del re Otari dal punto di vista dell'onomastica i nomi degli anelli indicano l'atteggiamento conservativo della classe dirigente Longobarda i cui si è già detto sopra dei undici nomi germanici se non sono latinizzati ad esempio quello sul anello sicillo della metà del settimo secolo ritrovato attrezzo sull'adda figura undici per favore grazie rotchis illustra da germanico rot fama e gisa bastone freccia con la mutazione longobardo tedesca superiore di g a k scritto c h quindi di nuovo un alto funzionario regio un nome longobardo appare romanizzato in forma obliqua cioè quello del notaio anzualdo in molti casi più al nord che al sud sono nomi bimembri correttamente divisi nei loro costituenti occasionalmente da una croce marce croce badu marce badu ari nuova riga chis ari chis questa pratica presuppone la comprensione della propria lingua longobarda al contrario più a sud non ci sono segmentazioni corrette piuttosto romanizzazioni ad esempio in faolfus con la caduta tipicamente romanzo di h dal germanico faha wolfa cattura più lupo cioè lupo predatore e auf red composto di germanico auja fatuna e friso pace con l'abbasamento romanzo di i ae e scomparsa della consonante finale del primo elemento prima delle consonanti iniziali cf e r del secondo elemento del nome fr ma ancora più sorprendente è un dettaglio iconografico delle figure maschili affigurate sulla testa dell'anello tutti loro ad eccezione ad eccezione di Marche Badus che potrebbe avere origini germanico orientali hanno la barba lunga e i capelli lunghi che centono divisi su entrambi i lati per interpretare correttamente questa iconografia bisogna rifarsi alla storia antica alla pre storia pagana al mito fondatore dei Longobardi il mito dell'origine e il sequente tutti sanno già che voglio dire in origine i Longobardi si chiamavano vinili cioè amici erano pochi e minacciati dal popolo germanico orientale dei vandali angosciati si erano rivolti attraverso la loro guida la saggia gambara alla dea frea la moglie della divinità maschile principale cioè il dio della battaglia Boda quest'ultimo aveva già promesso ai vandali a quelli che vedrò per primi al sorcer del sole darò la vittoria frea decide allora di ingannare il marito e consiglia ai vinili di far stimare alle loro donne i capelli sciolti intorno al loro mento come fosse una barba per simulare un maggio numero di guerrieri al sorcere del sole dunque i vinili si trovavano ad oriente frea gira il letto di Voda nella loro direzione quest'ultimo allora chiede chi sono queste lunghe barbe che frea interpreta astutamente come un atto di attribuzione del nome come come hai dato loro il nome dai loro anche la vittoria da quel momento i longobardi portano il loro nome parlante cioe lunghe barbe e usano la scriminatura nel mezzo come tratto distintivo lo testimoniano le monete longobardi la lamina del re agilulfo e lo stesso paolo di acono quest'ultimo racconta come egli stesso personalmente avesse visto questa scriminatura nei longobardi dipinti nelle affresche del palazzo di monza fatti eseguire dalla regina Teodelinda se i signori degli anelli si fecero raffigurare con questo tratto distintivo nel settimo secolo l'intenzione era certamente di esprimere attraverso l'anello simbolo della carica e del potere l'identità longobarda il mio ultimo esempio riguarda la storia di un capo mercenario un signore della guerra la cui vita è carattizzata da molte tappe differenti palo di acono ci racconta la sua storia collocabile alla fine del sesto secolo tramandandoci anche l'epitafio proveniente da ravenna ma ormai perduto presento un parafrasi del testo offerto da paolo di acono sia il racconto di paolo di acono sia il testo dell'epitafio da lui tramandato sono confermati da fonti greche se incontri tutti gli autori un certo troctulf proveniva dal popolo degli allemanni che qui sono chiamati suavi suevi cade brigioniero dei longobardi ma per le sue capacità assunse la dignità di ducatus termine che qui dovrebbe essere tradotto come capo militare secondo il suo epitafio sempre addirittura aveva assunto l'usanza di potare la barba propria dei longobardi e quindi una nuova identità gentilizia essendo questo popolo chiamato più tardi gens sua quando si presentò l'occasione questo signore della guerra questo valort cambiò schieramento giustificando con la vendetta per la sua prigionia e si chierò dalla parte dei bizantini e del loro patricio smaractus insediato a ravenna ten a lungo la cività di precello sul po nota oggi per essere la cittadina di don camilo e pepone per le truppe imperiali contro i longobardi offrì una dura resistenza anche in ritirata e riconquistò la fortezza di ravenna come capo militare ravenate bizantino liberò il porto militare di classe dai longobardi combattendo contro il loro contertiero farualdo ad oriente vinse nel 587 contro gli avari come ringraziamento ravenna eresse una tomba in suo onore ante limina beati vitalis materis davanti alla chiesa del suo santo partono cioe vitalis dunque davanti a san vitale questo comandante dell'esercito troctus aveva più identità il suo nome è stato tramandato in forma romanizzata nella patria alemana ma anche nella lingua longobarda sarebbe stato trutti wolf cioe lupo del seguito lupo del comitatus il nesso ht che esiste ancora oggi per esempio nel tedesco acht otto non poteva essere pronunciato dai palanti romanzi che lo sostituino con kt la u in trutti schiera seguito si è abbassata in o nel latino palato inoltre fu creata una forma appreviata trocto nel caso obliquo romanzo troctone che a sua volta come attesta l'epitafio fu precisato come troctone per concludere le forme dei nomi presenti nelle iscrizioni e in altri documenti attestano e questo si può vedere particolarmente bene nel caso di troctus le migrazioni di persone e gruppi ma allo stesso tempo i loro movimenti e cambiamenti di identità grazie per la loro pazienza bene ringrazio il professore per questa lezione veramente stupenda così ricca di cose di dati di elementi linguistici che fa molto molto pensare ora il mio compito è di raccogliere le richieste di parola per chiedere chiarimenti o commenti ora io non so bene dove devo guardare dovrei vedere da qualche parte l'icona delle mani alzate se il momento non è detto allora approfitterei del ruolo che mi è stato assegnato per fare io una domanda io mi sono interrogato a lungo su un problema molto discusso nella longobardistica che lei anche qui ha indirettamente esplorato e cioè fino a quando i longobardi hanno parlato longobardo perché c'erano le posizioni iniziali dei primi longobardisti tedeschi come Brukma i quali erano dell'idea che il longobardo fosse durato in vita molto a lungo ancora dopo il 1000 si faceva l'ipotesi che esistessero piccole comunità di lingua longobarda il modello a cui pensava Brukner era la persistenza in Italia meridionale di comunità greche comunità albanesi comunità croate che erano durate molto a lungo e che in parte ancora sopravvivono io su questa poi mano a mano che si è andati avanti Gamilce non si esprime esplicitamente su questo però leggendolo sembra di capire che è abbastanza d'accordo con Brukner che anche lui sarebbe favorevole a una durata lunga della lingua venendo a tempi più recenti per esempio Pier Giuseppe Scardigli un filologo germanico italiano che ha dedicato molta attenzione ai Longobardi e ai Goti e che ha addirittura tracciato una storia del Longobardo una fase gotica del Longobardo e poi una fase autotedesca diciamo dovuta ai particolari rapporti anche dinastici tra i Longobardi e i Bavaresi e i Tirolesi e per esempio Scardigli riteneva che all'epoca dell'emanazione dell'editto di Rotary cioè alla metà del settimo secolo dopo Cristo i Longobardi fossero sostanzialmente già romanizzati io personalmente ho un problema non posso per esempio ho fatto Federico non ti sentiamo Federico è andato via l'audio e abbiamo perso il picco informativo di quello che stavi dicendo puoi ripetere per favore sì grazie come facciamo Federico credo si sia un attimo perso la connessione vogliamo chiamarlo lo chiamiamo è bloccata l'immagine aspettate che proviamo a chiamare Federico sul è come disconnesso sì è meglio rientra e se rientra è meglio sì ecco adesso sì però sono 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 ricomparso sì appunto come dicevo prima gioie croce e delizia informatica mi dice Rosanna che mi avete sentito fino a quando ho menzionato Scardigli allora Scardigli riteneva che all'epoca dell'editto di Rotary i Longobardi linguisticamente si fossero già romanizzati io trovo convincente questa ipotesi e studiando le reliquie Gentis Langobardorum in Italia meridionale dove si facevano glossari Longobardo latini dove si copiavano codici in cui era riportata la origo Gentis Langobardorum con tanto di bellissima miniatura in cui era affigurata i vigniles gambe mi ero fatto l'idea che i Longobardi pur essendo romanizzati nella lingua abbastanza precocemente abbiano però con tenacia conservato alcuni tratti distintivi della loro identità non credo più di razza veramente perché chissà quante mescolanze c'erano state però di gruppo dirigente politico una serie di tratti di riconoscimento per esempio io non credo che i glossari Longobardo latini che a noi sono conservati servissero veramente a capire le parole Longobarde dell'editto di Rotary anche perché queste parole Longobarde quasi sempre sono glossate spesso dentro l'editto di Rotary quindi non c'era bisogno di un glossario ma erano piuttosto copiati e conservati come segni di riconoscimento come reliquie di una identità che probabilmente non aveva più una vera base etnica diciamo così del sangue non aveva più una base linguistica non aveva più una base demografica ma rimaneva però come forma di un potere che veniva esercitato e questo potere aveva bisogno di simboli questi simboli e l'onomastica che rivela una vocazione conservativa lo dirà poi Elza Morricchio che ha studiato queste cose l'antroponimia Longobarda a Salerno nel IX secolo ha tutte le caratteristiche conservate che lei ha così ben esposto sulla oromastica germanica generale ora la mia domanda lei cosa pensa di questo problema in rapporto alle epigrafi che ci ha fatto vedere e anche in rapporto ad alcuni commenti che lei ha fatto osservando come certe volte il trattamento anche ortografico del nome riveli una consapevolezza morfologica e quindi riveli la capacità di fare un'analisi morfologica di quei nomi il che sembra implicare una conoscenza linguistica perché la conoscenza morfologica è una parte della conoscenza linguistica è anche vero che quasi tutte le iscrizioni che lei ha fatto vedere sono abbastanza arcaiche rispetto alla storia dei Longobardi in Italia perché sono sesto settimo secolo forse ce n'è qualcuna dell'ottavo ma insomma è un pacchetto di testi che risalgono la fase iniziale dei Longobardi in Italia ecco ma la domanda che io mi permetterei di farle lei cosa pensa della data di morte del Longobardo in Italia grazie per questa importante domanda mi scuso per il mio italiano povero l'italiano è ricchissimo io vorrei parlare in tedesco la metà di come lei parla l'italiano quindi noi parliamo questo allora la mia opinione è questa non penso che il Longobardo è già istinto nel settimo secolo perché molti dei nomi sono ancora viva sono ancora nella ortografia nella morfologia presente ho dato alcuni esempi ma un'altra cosa il primo manoscritto del dito Rotary è il manoscritto di Sangallo e questo manoscritto ha forme che sono quasi identiche con l'antico alto tedesco e ancora hanno i longobardismi che non sono presenti nel alto tedesco a calco alto tedesco e dopo cambia la cosa nell'ottavo secolo le romanizzazioni degli nomi e degli piccoli sostantivi verbi e così sono più romanizzati ma ancora sono alcuni elementi che testimoniano che la lingua longobarda non è estinta ma tutti gli soggetti tutti gli individui longobardi sono bilingue un esempio è da Robert Wagner che ha scritto sul altaro altare di Radchis ha identificato un aggettivo longobardo che vuol dire renovato e questo aggettivo nel aggiunto al nome di Tedrei Radchis e longobardo e perché hanno detto un nome un sostantivo un aggettivo longobardo quando il popolo non può comprendere questo aggettivo e sono molte altre cose che mi danno la convinzione che nel ottavo secolo la situazione linguistica cambia e al fine del ottavo secolo il longobardo è estinto forse ancora in alcuni ambienti una come si dice un tedesco hausschware di casa o di famiglia e dopo l'ultimo testimonio nella storia gotana dove si trova un come si dice un error i lettinghi sono ancora misunderstood in English mal compreso preso come edilinghi lettinghi edilinghi edilinghi è perfettamente alto tedesco dunque io dovrei vedere se non so bene dove guardare per trovare c'è qualcuno che ha alzato la mano Federico Paolo Ramat ha alzato la mano e poi c'è per Larsson benissimo allora io Paolo a te la parola grazie spero che mi vediate e mi sentiate soprattutto è così? sì io ti sento benissimo parlo dalla capitale dei Longobardi da piazza al buino quindi vorrei chiedere al professor Haubricht che ci ha mostrato delle splendide iscrizioni epigrafi funerarie ha fatto ha nominato chiese che io non conosco qua a Pavia cioè chiese che non esistono più a mia conoscenza qui a Pavia esiste soltanto una cripta Longobarda San Eusebio errore perché notoriamente i Longobardi erano ariani quindi a un certo momento furono diciamo si scontrarono con la religione con la ortodossia romana e questo deve essere avvenuto abbastanza presto abbastanza presto cioè mi sembra che questo elemento di contrasto religioso sia un fatto importante nell'assorbimento verso la romanità dell'autorità che proveniva da Roma per considerare come tu stesso Federico hai detto considerare che il Longobardo in quanto lingua parlata sia sparito abbastanza presto il mio intervento è questo professore vuole rispondere subito raccogliamo prima l'intervento di Larson ancora la parola avete detto che posso parlare io grazie mi scusami mi scuso con voi che sono arrivato un po' tardi oggi perché c'è una riunione al lavoro sono molto contento perché il professor Haubrich lo conoscevo come scrittore non ho mai sentito la sua voce e conoscerlo così sullo schermo con un intervento così interessante e così bello mi ha fatto un grande piacere e poi dopo vedere adesso il professor Albano Leone e dopo 33 anni che non ci vedevamo mi ha fatto anche molto piacere ricordare gli articoli che ha citato lui adesso che ho letto nel frattempo per cui io non volevo contraddire in realtà a nessuno volevo dire così come lui diceva che i glossari non servivano a glossare ma servivano a mantenere una specie di segno di nobiltà mi stavo chiedendo i longobardi come molti popoli linguisticamente diciamo diluiti che spesso si attaccano a delle singole come molti gallesi che non sanno il gallese ma l'intellezione in gallese non sarebbe così strano se la forma del nome proprio di una persona importante tanto più in un popolo che serviva un indirizzo religioso dove il battesimo era particolarmente importante se la forma del nome che veniva pronunciato al battesimo suppongo fosse si tenesse a dargli una forma anche una forma germanica mi ricordo non ricordo purtroppo la forma ricordo un passo di Francesco Salvatini quando lui citava alcuni nomi forse non voglio offendere nessuno potrebbe essere stato anche da Morlicchio o Albanaleone stessi che dei nomi nel sud Italia di base di Longobarda ma combinati in modo tale che le due parti del nome si contraddicesse si cozzassero fra di loro diciamo per cui questa voglia di fare germanici in realtà non occorre la voglia di sembrare di sembrare di un popolo pensiamo a tutte le lingue minoritarie della Francia che è praticamente estinte ma la persona a far vedere qualcosa della lingua stessa io recentemente ho dovuto leggere un po' di cose sull'italiano medievale ancora nel 300 metà 300 dice Giovanni Villani c'erano gruppi di persone che si proclamavano lambardi con vocalismo A che chiaramente è da Langobardo più che da Longobardo e che erano tutto sommato un disturbo nella società perché pretendevano di non pagare le tasse di essere franchi e vivevano in comunità abbastanza concentrato geograficamente e ancora c'è per esempio un documento dove dicono che i lambardi di un certo punto sull'Arno ogni volta che gli aritini facevano uno strumento per la pesca li distruggevano perché pretendevano chiedere loro diritti poi c'erano i lambardi e questi chiaramente mostra che quelli continuavano a fare i Longobardi anche se la lingua sarà estinta da parecchio tempo perché la lingua una lingua la lingua è viva finché serve a comunicare mentre il Longobardo come mezzo di comunicazione tra persone i Longobardofoni diciamo credo sia stata sia avvenuta abbastanza presto non so bene quale di due luminari qui presenti stasera devo seguire ma io sono piuttosto convinto che la lingua come lingua viva di comunicazione sia sparita prestino però ovviamente i Longobardi romanizzandosi per i loro oggetti le loro cose romanizzarono loro le forme non è che non è che loro usassero le parole di termine Longobardi in forma germanica e li passassero la palla ai vicini italiani perché le parole le parole e i nomi poi una domanda voglio fare i ipocoristici non so se l'ipocorista è il nome giusto i nomignoli diciamo di di sette Longobardi hanno una tendenza a volte a avarcare la struttura del nome diciamo un nome come Alpertus Alpert il diminutivo è Alpulus Agilulfo viene chiamato anche Aggo e ci sono vari nomi così e questo non lo so io chiedo veramente a voi mettendo le vostre mani è un uso che voi considerate piuttosto germanico vero reale o è un uso comprensibile da parte di persone ormai romanizzate latinizzate che non sanno più dove finisce uno e comincia l'altro grazie ho preparato abbastanza prego e tutti e due modi sono presenti il la come Aggo e Agilulfo il nome breve di Agilulfo è normale nel mondo germanico si trova anche con i franchi con i turinghi alemanni bavari è normale e anche la preparazione di Adalbert a Albert è così o da ben Apo è così o etico come nome breve non si non si vede immediatamente del Adalricus Adalricus e Adalbertus e l'altro modo di una versione romanzo del nome breve fatto del composto produito del un nome germanico Longopardo è anche presente come Albertus Adalbertus Albertulus di diminuzione con Ulus come ha già mostrato Nicoletta Francovici Onesti per un bel saggio sono anche presente e sono anche presente nel mondo italiano una cosa che si trova anche nella Francia del settimo ottavo e nono secolo di Ibridi come si dice qua Fosco Fosculfus da Fuscus e Wolfa Lupo o altre cose altra miszione Ibridi che sono presente Flavu Bertus Flaviriquis e così penso io questo è anche un testimonio del crescente blurilinguismo bilinguismo della popolazione italiana langobarda langobarda italiana langobarda latina e così e questo è normale nella langobardia dell'Italia nel terra bizantina avenda calabria avenda è molto interessante perché abbiamo molti documenti originali qua sono quasi solamente dei nomi latini o greco latini e dopo e solamente dopo la conquistazione di ravenne per i franchi vengono nomi germanici franchi e negli documenti si può dire si può vedere che questi sono venuti da matrimoni dei funzionari franchi o franchi longobardi con chi hanno fatto un matrimonio con una figlia di una famiglia di bizantina o ravenata o romana questo che posso dire Federico non so se tu vedi che c'è anche una richiesta di intervento da parte di Francesco Lomonaco Federico non ha il microfono ci sono sono qua Federico vedi che c'è Francesco Lomonaco che richiede di intervenire si ma il professore Albano Leoni ha l'introfono spento Federico ha il microfono spento ecco no scusate io questa manina non la vedo quindi do la parola al professor Lomonaco l'avevo abbassato perché Rossana mi aveva individuato mi fa molto il piacere aver ascoltato Wolfgang Aufrichsen su alcuni dei grandi temi che poi ci accomunano anche degli interessi sono del tutto d'accordo sull'idea che il Longobardo rimanga come una sorta di haus fra cioè di fatto poi l'ingresso una serie di termini nel lessico comune rende chiaro che il Longobardo non diventa e non viene accettato di fatto dalle classi dirigenti come lingua identitaria come faranno i franchi in maniera completamente diversa ma la lingua identitaria diventa il latino quindi è un atteggiamento diverso nei confronti di quelle che sono delle lingue di aristocrazia il discorso di aristocrazia è assolutamente fondamentale il fatto che sia una hausprache per esempio può essere certificato da un documento di Bergamo del 740 nella quale un documento privato quindi in un ambito di scambio di compravendite di terra in cui i beni di una famiglia un documento in cui si parla di terras come famiglias seoskerfas belpeculias quindi deve introdurre come glossa il seoskerfas a indicare che di fatto doveva essere una hausprache da questo punto di vista sul discorso dell'istocrazia molto interessante poiché di fatto se vediamo mi dispiace riprendere minimamente il discorso fatto in occasione del mio intervento ma i Longobardi di fatto sopravvissero e ebbero un revival tra undicesimo e dodicesimo secolo nell'Italia settentrionale con una serie di recuperi onomastici genericamente germanici ma che diventano Longobardi poiché la forza identitaria è essere di Nazio o Gens Langobardorum con il recupero della Lex Langobardorum per cui di fatto i Longobardi diventano forme identitarie molto marcate in un contesto anche di recupero giuridico e sempre delle aristocrazie terriere quindi sempre un discorso prevalentemente alto in cui per esempio la componente salica il richiamo alla componente salica è assolutamente minoritario cioè un'opposizione l'ex romana e l'ex nazionis Langobardorum quindi con un miscuglio molto interessante ma di recupero addirittura di undicesimo e dodicesimo secolo per non poi scendere addirittura in epoche più basse fino a di fatto ai primissimi anni del tredicesimo secolo era quello che volevo dire è grande riconoscenza per questa marcatura sull'aristocrazie su quest'idea del Longobardo come housewrack che poi il Longobardo scompaia per via di questioni religiose ma i Longobardi non furono mai prettamente ariani i Lettingi erano cattolici quindi la situazione religiosa dei Longobardi è una situazione abbastanza articolata e complessa grazie per il contributo ci sono altre mani alzate Rosanna non ne vedo Federico non ne vedo ci sono altri interventi repliche allora Federico se credi volevo chiederti Rosanna tu hai un controllo del tempo migliore del mio no sì perché adesso potremmo fare una pausa di 10 minuti quindi ci rivediamo alle 17 45 diciamo 12 minuti per la seconda sezione io pensavo di chiederti siccome chissà quando avrò di nuovo l'occasione di parlare col professore io avevo ancora una domanda mi domandavo se tu mi autorizzavi a farla assolutamente sì grazie allora sempre tornando al tema della morte del Longobardo io cominciai a rifletterci in base a questa considerazione se noi facciamo finta di non avere documenti del gotico facciamo finta di non avere documenti di nessuna varietà anglosassone e di conoscere soltanto le storie scritte in latino di questi popoli Beda storie ecclesiastiche Giordano bene leggendo questi testi noi percepiremmo il fatto che le popolazioni di cui si fa la storia parlavano una determinata lingua o addirittura ne parlavano più di una ci sono episodi in cui in Beda si chiede che lì vada un vescovo particolare che conosca la loro lingua perché altrimenti le cose non funzionano e indizi di questo genere c'è una lettera apocrifa di non mi ricordo quale re goto a Cassiodoro re o nobile goto il quale dice pueri romani nostra lingua locuntur è falsa l'affermazione la escludo nel modo più tazzativo ma è il segno di una consapevolezza linguistica di questo goto i giovani romani parlano la nostra lingua cioè il gotico per far vedere quanto siamo in buoni rapporti bene detto questo io lessi a suo tempo con grande attenzione tutte le storie dei longobardi da Paolo Diacono a Erkemperto la Origo non sono mai riuscito a trovare un passo una situazione in cui si menzionasse una situazione di bilinguismo in cui come è per esempio in Giordanes come è in cui fosse necessario un interprete in cui nelle conversazioni o nelle interazioni tra i longobardi e tutti gli altri emergesse mai una difficoltà linguistica le uniche volte che Paolo Diacono parla del longobardo è quando cita alcune parolette che poi sono sempre le stesse che stanno in Rotary che stanno nei glossari e dice secondo la lingua dei nostri antenati o qualcosa del genere ma mai come un fenomeno a lui contemporaneo ecco questa lettura abbastanza capillare che fece di questi stori invece veniva il dubbio ma se qui non si parla mai di situazioni bilini forse è perché queste situazioni non esistevano certo c'è la risposta di una paususprache queste situazioni di bilinguismo non emergono nelle storie perché i longobardi parlavano longobardo fra di loro diciamo quando stavano nell'intimità domestica e mai quando stavano fuori però a me sempre questo fatto sembrava un po' strano lei questa prospettiva diciamo così storiografica come la valuta pensa che sia una constatazione che può aiutare a capire il problema della longevità del longobardo o è fuori strada è un grande problema devo dire anche con con i franci per i franci e per i burgundi abbiamo forse alcuni alcuni esempi da persone per personaggi che hanno hanno comparato no comparato imparato studiato la lingua volgare dei popoli germanici ma non abbiamo situazione quella è scritta una situazione bilinguistica solamente nel nono secolo o al fine dell'ottavo secolo abbiamo in Gallia nella Francia abbiamo alcune persone santi o abati che hanno una vita dove è detto che hanno la facoltà di parlare in lingua latina in lingua teodisca e anche in lingua volgare romanica rustica romana lingua ma una situazione bilingua non è descritta penso è la stessa cosa con i longobardi e i romani normalmente tutta la popolazione longobarda è stata prevalentemente l'aristocrazia è stata bilingua la popolazione urale è un'altra cosa forse ma anche questi sono certamente bilingue dopo una cinquanta di anni penso io ma la situazione bilingua è stata ancora ancora viva e ancora è stato ancora nell'ottavo secolo penso io certamente visibile perché abbiamo come come nel francese abbiamo molti prestiti dove parla forse il damolichio penso io e nel francese abbiamo quasi una cinquantina nella lingua standard e anche nelle dialette nel italiano e sui dialetti abbiamo forse duecento e sono prestiti che si trovano non in regioni speciali solamente ma anche nella comunicazione quotidiana questo per me è anche un argomento di dire è stata una lunga periodo di bilinguismo grazie professore mi scuso di averle rubato ancora del tempo allora seguendo l'indicazione di Rosanna facciamo una pausa di una diecina di minuti e quindi ci rivediamo alle 6 meno 10 grazie e a presto se ci siete vorrei salutare Anna Gione e Paolo Ramat che ho visto durante le varie relazioni ma mi fa piacere salutarli grazie di essere con noi grazie a te è sempre un piacere ascoltarvi e complimenti per tutta l'organizzazione che funziona abbastanza bene grazie grazie Paolo grazie Anna è un piacere avervi con noi ciao a tra poco ciao Wolfgang ciao ci vediamo dopo allora io ho il piacere e anche l'onore di introdurre la prossima relatrice che se non ho capito male è Elda Morlicchio è abbastanza nota nell'ambiente in cui ci stiamo muovendo sia nel coté italiano sia nel coté Saabrücken perché credo che Elda sia molto nota anche la Saabrücken Elda è una germanista di diciamo proprio di razza perché tutto il suo corso di studi è stato su variazioni importanti sul tema del tedesco dall'inizio suo primo lavoro se non ricordo male è un'analisi semantica delle glosse latine dell'Abroganz delle glosse tedesche scusate dell'Abroganz e un'altra variazione importante che ci porta al cuore di quello di cui stiamo discutendo oggi è un libro che è stato che ha aperto una pista diciamo così sulla antroponimia Longobarda a Salerno sulla base dello sfoglio delle carte del primo volume essenzialmente primo se non ricordo male del codice diplomatico Cabenze dove tutte le caratteristiche di cui abbiamo sentito parlare adesso dell'antroponimia germanica sono presenti con in più in maniera significativa un tema del quale del quale il professor Haubrich non ha parlato che è quello dei nomi ibridi fatti cioè per metà con un termine germanico e per metà invece con un termine romanzo ma il cursus studiorum di Enna la Morlittio continua ancora sul tedesco voglio ricordare il suo contributo determinante a quel libro del mulino introduzione allo studio della lingua tedesca e più l'ultimo lavoro per quello che risulta a me come libro una introduzione alla filologia germanica di cui adesso non ricordo esattamente il titolo che ha scritto insieme a Simona Leonardi e che è estremamente interessante fin dal titolo perché mostra una prospettiva per la quale la filologia germanica serve a spiegare e a illustrare fenomeni delle lingue germaniche moderne è inutile che ricordi qui che un punto di svolta importante nella carriera di studiosa di Elda è stato l'incontro con Max Fister se non ricordo male un incontro mediato favorito da Alberto Varbaro che la mise in contatto con questo gruppo importante di lavoro sul lessico etimologico dell'italiano Fister era un uomo intelligente capì che con Elda faceva un ottimo acquisto e la arruolò diciamo così nello staff del lessico etimologico italiano affidandole la responsabilità appunto della componente germanica del lessico italiano ha fatto esperienze anche riguardo alla didattica delle lingue moderne e continua dopo una esperienza di sei anni come rettore perché la Marvizio ha anche grandi capacità organizzative come rettore dell'orientale e adesso è tornata felicemente tra noi nella comunità degli studi e forse per quello che risulta a me ma potrei essere mal informato questo è il suo primo intervento pubblico di lavoro dopo che ha terminato il suo mandato di rettore quindi le do volentieri la parola e la ringrazio di aver accolto l'invito di Rosanna grazie Federico ovviamente io sono molto emozionata perché come dici tu questo ciclo di incontri per me per il quale veramente ringrazio tanto gli organizzatori è coinciso più o meno con la fine del mio rettorato e quindi è stato per me una specie di rimpatriata perché è stato un modo per tornare non solo tra i colleghi e gli amici di sempre ma anche poi una rimpatriata perché mi ha consentito come dire di riprendere finalmente contatto con i miei amati amati Longobardi e quindi io veramente vi ringrazio privatamente di questo e anche se devo dire che oggi mi avete dato un compito in grado perché devo parlare dopo due giganti come Francesco Sabatini è l'amico Wolfgang Albrecht in una in una seduta preseduta dal Banolioni che è stato il mio maestro e a cui devo molte cose fra cui anche l'interesse per i Longobardi insomma diciamo che la sedia sulla quale mi sto seduta oggi è una sedia che scotta un pochino però ovviamente dopo aver ringraziato i miei maestri che fisicamente vicini o lontani attraverso i loro libri mi hanno aiutato a crescere voglio precisare come si fa di solito nei volumi dopo i ringraziamenti che errori e imprecisioni sono di mia esclusiva responsabilità noi abbiamo sottolineato molto l'approccio interdisciplinare di questo seminario che è stato veramente l'elemento di forza di questo ciclo di incontri e in realtà però riflettendo un po' tutto il periodo tardo antico ed alto mediorale richiede necessariamente un approccio interdisciplinare nel 2017 si è svolto un convegno dedicato ai Longobardi del Sud nell'Università del Sagno ovviamente a Benevento e quello che mi colpì in quel convegno fu che nel seguire i lavori che erano dedicati alle varie sessioni diritto storia lingua vita ecclesiastica cultura arte ritornava spesso alla scelta di stesse immagini cioè relatori diversi per discipline diverse avevano utilizzato uno stesso manufatto oppure uno stesso manoscritto una stessa iscrizione per accompagnare le osservazioni che afferivano ai loro ambiti di ricerca diciamo che in quell'occasione ho toccato un po' con mano come uno stesso oggetto può diventare documento testo per ogni disciplina cioè che viene letto diciamo da ogni disciplina inquadrandolo nell'ambito delle sue specifiche delle proprie specifiche competenze e questo è un caso che per i longobardi si verifica molto spesso e ancora un'altra considerazione ho fatto spesso ascoltando le conferenze qui se mi permettete io adesso condivido lo schermo oddio condividi schermo scusate un attimo ecco qua credo che adesso ce l'ho fatta giusto si si vede lo schermo si ok perfetto grazie allora un'altra considerazione ho fatto spesso ascoltando le conferenze io ho iniziato a lavorare sui longobardi precisamente lo ricordava Federico sulle antroponimi delle carte più antiche nel 1980 proprio sul suo suggerimento quelli erano gli anni in cui Albano Leoni stava lavorando alla pubblicazione dei glossari Longobardo latini e lavorava anche sulle carte del codice cadenze bene se io penso come erano visti e qual era l'approccio che c'era all'epoca negli anni 70 e 80 rispetto al problema dei longobardi e che cosa invece oggi è diventato negli ultimi anni decenni lo studio del longobardo e della realtà del longobardi in Italia mi sembra che ci sia stata una differenza notevole e lo ricordavo anche prima Wolfgang e Habrichs ci sono stati molti convegni in questi anni e se noi guardiamo la prospettiva di questi convegni e poi pensiamo anche magari ai titoli dei vari progetti scientifici europei che sono stati finanziati in questi anni sul tema delle migrazioni dei popoli ci rendiamo conto come la la prospettiva sia completamente cambiata e in positivo ovviamente e e e anche i sostantivi che descrivono il contatto fra la popolazione italoromanza e i longobardi prima si parlava quasi esclusivamente di assimilazione assimilazione significa ovviamente che la popolazione germanica veniva assorbita ma non c'era una trasformazione della realtà della società poi invece si è cominciato a parlare di acculturazione che è già a un livello secondo me diverso e l'acculturazione è l'integrazione significa integrazione di culture di popolazioni o di gruppi sociali differenti però diciamo che acculturazione ha anche un'altra accezione quella di acquisizione di un grado di cultura più elevato e quindi parlare di acculturazione dei longobardi significava già significa già mettere il longobardo un gradino inferiore rispetto alla cultura romanza ma c'è poi un altro termine che stranamente oggi Wolfgang non mi sembra di averglielo sentito ma che invece è presente in un titolo di un suo lavoro di qualche anno fa che è un termine che a me piace molto che è quello dell'amalgamazione cioè dell'amalgama che secondo me è il termine che meglio descrive che cosa succede a queste due popolazioni quando vengono insieme perché l'amalgama amalgamarsi significa appunto fondersi in maniera in maniera armoniosa e l'amalgama che è una voce dell'essico dell'essico tecnico della chimica e della mineralogia significa appunto unione di elementi diversi e quindi questo questo sostantivo mi sembra che ben descriva secondo me che cosa è successo in quegli anni in quegli anni in Italia noi sappiamo anche è stato anche in qualche maniera è avvenuto già fuori anche nella discussione precedente quanto sia difficile parlare di identità etnica dei 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 Longobardi però una cosa importante che oggi ci viene ci viene detto ci viene ricordato più volte anche dagli storici penso per esempio al contributo di Paul intitolato la discuta identità etnica dei Longobardi oppure al saggio di Gignoli Bugar dal titolo dunque era 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 in un convegno dedicato all'Angobardia prima idea d'Italia in cui gli storici che cosa ci dicono ci dicono guardate che Longobardi non è stata una società che non si è mai modificata cioè è una società dice Paul in profonda trasformazione e il Longobardo diciamo che è entrato in Italia sicuramente è molto diverso dal Longobardo del VII e dell'VIII e dell'VIII secolo e questo è un concetto importante che dobbiamo di quale dobbiamo ricordarci sempre anche noi linguisti perché una delle tendenze che c'era soprattutto nella linguistica ancora forse dei primi decenni del Novecento che quando si parla di una lingua che non è più parlata le cosiddette lingue morte penso anche al caso del gotico si tende a vederle come una realtà fotografata in un momento particolare della storia a dimenticarsi che anche quelle lingue hanno avuto una diacronia hanno avuto una variazione in in diacronia e quindi di questa complessità della realtà della cultura longobarda che è venuta fuori anche in tutti gli incontri ai quali abbiamo già partecipato e viene fuori appunto una realtà di grande complessità polifonica direi dove come abbiamo visto credo nell'ultimo incontro sono presenti anche la cultura greco-bizzantina ed ebraica quindi un quadro veramente molto complesso sulla grecità e sui bizantini abbiamo già detto qualcosa prima quindi non ritorno più anche per guadagnare tempo ma del resto gli stessi longobardi lo sappiamo non era un popolo compatto al suo interno oggi con la presenza di due germanisti Wolfgang Abbrich e la sottoscritta stiamo facendo parlare i longobardi mettendoci dalla parte della loro lingua perché noi abbiamo già parlato di documenti longobardi ma prevalentemente abbiamo parlato di documenti latini ma quello che credo che sia interessante è che oggi queste lezioni di oggi questi incontri di oggi e i prossimi che saranno dedicati alla lingua dei longobardi sono divise in maniera voglio dire propriamente par condicio equamente fra quattro germanisti e quattro storici della lingua italiana perché oggi la prossima volta parleranno Marco Battaglia e Marina Buzzoni due colleghi filologi germanici oggi hanno parlato Sabatini e parlerà poi Nicola Rebrasi la volta in uno dei prossimi incontri abbiamo visto i nomi di Sergio Rubelli e Francesco Montuori quindi quattro storici della lingua italiana e quattro germanisti per parlare della lingua dei longobardi e devo dire che essendo una lingua della quale si dice che è una lingua relitta che è una lingua in macerie forse se abbiamo materiali per parlarne così tanti e da tante prospettive forse allora tanto macerie questa lingua dei longobardi non era questo era il titolo di un volume pubblicato nel 1989 a cura di Heinrich Beck che si chiamava proprio Germanische Resto und Trümmer Sprachen i longobardi e perché poi un germanista cioè e perché c'è questo incontro fra germanisti e storici della lingua italiana è venuto fuori un pochino già negli interventi di prima perché i longobardi in realtà hanno lasciato le loro tracce prevalentemente in Italia per cui chi vuole studiare i longobardi certo sotto altri aspetti archeologici e storici ovviamente abbiamo anche la pannonia e le regioni orientali d'Europa ma chi vuole studiare i longobardi non può fare a meno di tenere presente quella che è la storia e la cultura dell'Italia e questo lo 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 riconosceva per esempio anche Wilhelm Bruckner che alla fine dell'Ottocento ha scritto una monografia dedicata alla lingua dei longobardi e che dichiara nella premessa che le sue fonti sono il codice Calenze il codice diplomatico Padovano il codice diplomatico Longobardo le leggi Lorigo Paolo Diacono il gesto di Farsa cioè per scrivere per occuparsi del longobardo non si può non venire in Italia non si può non studiare fonti fonti italiane vedevo anche dire che in realtà il manuale di libro di di Bruckner più che una lingua dei longobardi era una raccolta di toponimi ed antroponimi la parte dedicata al lessico consiste in pochissime in pochissime pagine ma di questo lo stesso Bruckner ne era ne era ne era consapevole e ma ovviamente era un'impresa per lui all'epoca non attuabile bene allora io che sono una germanista ma sono un'italiana che quindi padre lingua italiana che vive e lavora in Italia mi trovo in una felice congiuntura perché sto proprio come dire nel cuore del problema occupandomi dei longobardi anche perché lo ricordava prima Federico Albano Leoni è stato un po' sempre il mio interesse quello di studiare il contatto fra mondo tardo antico e alto medievale e italiano e mondo germanico e chi mi ha proceduto oggi ha dimostrato già in maniera veramente esattamente quanto è importante lo studio della toponomastica e dell'onomastica per lo studio dei longobardi ed ecco perché invece io ho pensato oggi invece di raccontare una mia esperienza che riguarda appunto il lavoro all'essico etimologico all'essico etimologico italiano qui io apro un attimo una velocissima parentesi per i giovani per gli studenti che ci stanno seguendo perché gli addetti lavori ovviamente sanno di che cosa parliamo quando parliamo dell'essico etimologico italiano per gli amici lei più comunemente lei è una pubblicazione che è iniziata nel 1979 la propria una decina di giorni fa ho ricevuto un nuovo fascicolo del sedicesimo volume e questo fascicolo si chiude con il verbo componere sì avete capito bene sedicesimo volume come siamo ancora alla lettera C contemporaneamente Marcello Aprile e Giorgio Marrapodi stanno curando i fascicoli con basi etimologiche che iniziano rispettivamente con la lettera D e con la lettera E queste cifre quindi questi numeri sedicesimo volume ma siamo ancora alla C ci fanno capire quanto sia imponente questa opera un lavoro enorme che forse soltanto un tedesco svizzero come Max Pfister poteva progettare e la conclusione di questa opera è prevista addirittura per il 2032 qui sono le copertine appunto degli ultimi tre fascicoli di queste tre sezioni Max Pfister lo ricordava anche Albano Leoni è stato un romanista dell'università del Starland scomparso tre anni fa che ha diciamo fondato questo vocabolario è stato poi affiancato già da diversi anni nel suo lavoro da Wolfgang Schweikart anche di romanista all'università del Starland e dopo la spomparsa di Max Pfister collabora a lei il collega Elton Prifti che è invece un romanista attualmente professore all'università di Vienna perché è importante per il mio lavoro sui Don Gobardi questa collaborazione con il lei perché il lei è un dizionario storico etimologico della lingua italiana che va dalle più antiche attestazioni ai giorni nostri ed include anche fonti dialettali antiche e moderne questo dizionario però e non poteva essere diversamente considerando quanto materiale di varie origini italiano italiano antico italiano moderno dialetti questo dizionario non parte però dalla voce attestata nella lingua italiana così come avviene di solito in un dizionario etimologico ma dalla base etimologica da cui derivano le forme derivati quindi questo mi consente di avere un quadro abbastanza chiaro man mano che vado avanti con il mio lavoro delle basi delle parole germaniche che hanno lasciato una traccia in Italia e questo avendo la fortuna di partire dai materiali che sono stati preparati per il lessico etimologico italiano che sono ovviamente vastissimi e utilissimi per poter lavorare i germanismi infatti noi abbiamo una sezione dedicata in particolare appunto a tutte le voci entrate nelle varietà italo-romanze dalle lingue germaniche dove per lingue germaniche si va dalle più antiche il gotico il longobardo fino al tedesco al tedesco moderno e come si vede dalla copertina del primo volume il primo volume comincia con l'A e finisce con la P e qui però l'ordine alfabetico infatti in questo caso è un ordine alfabetico atipico in quanto è un ordine alfabetico che tiene conto dei fenomeni del consonantismo germanico a cui ha accennato già prima Wolfgang Haubrichs e quindi della compresenza di forme germaniche che presentano esiti di questo importante fenomeno la seconda mutazione consonantica e quindi questo primo volume che sarebbe tradizionalmente lettera A e lettera B contiene anche voci con l'occlusiva sorda labiale P qui ho preso ho scelto due esempi di due delle prime voci delle prime righe di una voce del volume dei germanismi ecco qui ho scelto un termine del lessico della caccia prima si parlava del longobardo come una lingua di uso quotidiano io ho cercato infatti di mostrare cercherò di mostrare esempi che riguardano appunto oggetti o azioni della quotidianità questo è un termine della caccia non è l'unico ce ne sono altri vedremo e questo è un altro termine sul quale si è molto discusso ma possiamo senz'altro considerarlo un termine di origine longobarda che è appunto il termine dell'aratro un tipo di aratro particolare che era stato introdotto appunto dai longobardi come vedete quindi nel lei si parte dalla base germanica e poi partendo dalle fonti più antiche secondo l'ordine anche geografico ben definito si descrivono tutte le attestazioni è chiaro che questo mi dà alla fine la possibilità di avere un quadro molto chiaro di quella che è come dire la storia della singola voce germanica e della sua diffusione sulla peninsola italiana il modello come probabilmente come sanno molti è quello di Walter von Marthburg autore del franzosice che che ugualmente aveva tre volumi che raccolgono le voci derivate dalle lingue germaniche però nel caso del francese forse ci sono due contesti che rendono un po' meno complessa la questione della ricostruzione della storia della parola innanzitutto non c'erano i longobardi e quindi il problema anche di individuare lessico gotico lessico longobardo per il francese non c'è secondo le voci di origine francone non sono molte ma ci sono si spiegano ovviamente come i germanismi ma quando invece io trovo una parola che è di origine francone in italiano devo chiedervi se sono davanti a un prestito dal francone oppure a un prestito dal francese quindi se si tratta piuttosto di un gallicismo quindi diciamo che il parallelismo con l'effe con il vocabolario etimologico del francese non è proprio perfetto nel caso dell'elemento dell'elemento germanico e vorrei però anche chiarire ma non perché c'è qui Almano Ioni che mi sta ascoltando che io non sto assolutamente pensando alla necessità di ricostruire i vari strati questo era come dire l'obiettivo della linguistica ottocentesca quella di creare le caselle di collocare tutto in maniera così genealogica creare come dire individuare le parentele quindi assolutamente non è questo il mio approccio so benissimo che non è questo quello a cui noi dobbiamo mirare lo diceva Albano Leoni l'ha ripetuto qualche anno dopo a proposito De Goti anche Carlo Alberto Mastrello e nel caso diciamo del lavoro a lei la ricchezza diciamo dei materiali che mi vengono offerti mi consentono di fare un'altra un'altra diciamo un'altra operazione a mio avviso a mio avviso importante per lo studio del del Longobardo e cioè di praticamente ricostruire di costruire la storia della parola e di descrivere grazie proprio alla grande quantità di materiale che io ho a disposizione i tempi i modi in cui una parola è entrata nel patrimonio lessicale Italo-Romanzo qualche volta riuscendo anche a stabilire attraverso la trafila con precisione qualche volta invece magari ci si deve fermare si deve parlare genericamente di voce germanica perché la complessità della storia della parola è tale che non permette di identificare con precisione il germanico ma quello che per me conta è quello che molti linguisti hanno chiamato il curriculum vita o se volete la biografia di una parola e credo che per lo studio del Longombardo ricostruire il curriculum vita e la biografia di una parola sia un contributo importante allo studio diciamo della germanistica e quindi il taglio che è stato dato da Max Pfister al progetto agli articoli dei lei risponde bene a questa mia esigenza da filologa germanica quindi diciamo che la germanista qui si è trovata con l'impostazione del lessito etimologico italiano nella condizione migliore per poter operare e qui Darkin è il responsabile della sezione etimologica dell'Oxford English Dictionary appunto c'è questo concetto ormai dell'etimologia come lo studio della storia delle parole e come una storia che deve andare anche oltre l'aspetto linguistico e toccare anche quello culturale e quello intellettuale e in effetti gli articoli dell'EI come spesso qualcuno ha detto sono un po' dei piccoli medaglioni che in qualche maniera rappresentano un punto di arrivo e qualche volta però anche un punto di partenza perché creano danno spunti riflessioni per ulteriori per ulteriori indagini ci sono potrei fare tantissimi esempi di pubblicazioni importanti nate proprio nell'officina dell'EI proprio da parte di giovani che lavoravano da redattori di articoli dell'EI fra i tantissimi esempi ne cito uno che riguarda ovviamente i germanismi Carolina Strombo di una storica della lingua italiana che collabora ai volumi dell'essito etimologico italiano ha scritto un volumetto dedicato a Predella Biacche Bramare etimologie e storie di tre germanismi dell'italiano e questo volumetto è nato proprio dalla collaborazione e dalla sesura degli articoli dell'EI quindi è anche un modo per andare anche oltre il singolo articolo lessicale tra l'altro sono tre parole tutte e tre presenti nel lessico dantesco Abrix ha già ha menzionato l'importanza della della mutazione della presenza della mutazione consonante che di fenomeni del vocalismo nell'identificazione del lessico etimologico italiano e devo anche dire che mi ha fatto molto piacere oggi sentirlo di nuovo sia pure attraverso lo schermo perché Wolfgang Abrix rappresenta un punto di riferimento importantissimo per i fascicoli dei germanismi il lessico etimologico italiano prevede una collaborazione tra filologi romanzi e filologi germanici ma nel caso particolare poi dei germanismi Abrix è il primo lettore il primo revisore degli articoli quando sono quando sono pronti e più volte c'è stato un fecondo scambio di idee quindi devo dire oggi ovviamente mi sono sentita emozionata anche per questo nel sentirlo e nel parlare dopo di lui dicevo Wolfgang Abrix ha già sottolineato più volte l'importanza della mutazione consonantica e l'importanza del vocalismo ovviamente la fonetica è il primo criterio a cui bisogna rifarsi quando si fa dell'etimologia però noi abbiamo anche altri criteri che ci possono aiutare uno per esempio è quello della geolinguistica in qualche caso anche quello della semantica ora io cercherò in questa parte finale di dare qualche esempio preso appunto dai dai volumi dai longobardismi che abbiamo già pubblicato nel primo volume gli ho scelti prendendo quei casi che forse possono essere più significativi o esemplificativi del lavoro che viene fatto e che si possono poi anche sciogliere e spiegare nel tempo di una comunicazione allora il primo scusatemi per la fotografia che non è venuta proprio perfetta non sono una grande tecnica ma mi faceva piacere dare proprio un'idea della stampa dell'aspetto grafico anche che hanno le voci del lei qui si tratta di un termine longombardo asca cenere è una voce che in italiano in italiano nelle forme italoromanze presenta l'agglutinazione dell'articolo l'asca è il nome di un pesce di acqua dolce allora qui diciamo che qui la fonetica asca poteva anche eventualmente farci pensare eventualmente a un goticismo non ci sono motivi per cui foneticamente debba essere per forza longombardo però qui qual è il motivo per cui con sicurezza abbiamo attribuito questa voce a longombardo perché si tratta di una voce che è attestata in pieno in Umbria cioè al sud dell'Umbria si trova soltanto un'attestazione nel romanesco e quindi diciamo che noi ci troviamo evidentemente nella zona del ducato dedicato di Spoleto nell'Italia longobarda mediana questo pesce ha una livrea grigio cenere e quindi ecco il nome asca asce perché la cenere appunto è grigia ma c'è anche un altro e poi è un sostantivo che noi troviamo molto presto già per esempio nel latino nel latino medievale di Perugia e quindi la geolinguistica qui ci consente di immaginare che sia un longobardo e qui mi piace segnalare anche il fatto che per esempio il commentatore Bute commentando Dante il verso del purgatore in cui si parla della celeste lasca spiega che la lasca è una specie di pesci che si trova nel lago di Perugia quindi anche in questo caso noi siamo riportati sempre comunque alla stessa area geografica e quindi da questo appunto si spiega che si tratta della costellazione dei pesci quindi anche qui lessico comune il lessico che riguarda le cose che si pescano le cose che si cacciano prima abbiamo visto borrire un termine della caccia sul quale molto hanno scritto anche altri bibliotologi e filologi qui ho preso invece due esempi paisa e paisan che vogliono dire uno esca e l'altro far mordere anche qui noi abbiamo una fonetica che mostra le tracce della mutazione consonantica il verbo germanico sarebbe bitan da cui il tedesco bison ma l'inglese appunto invece che non ha la mutazione bite anche l'esca si dice bite in inglese e quindi si tratta di due verbi che hanno a che vedere con le tecniche della caccia e che mostrano appunto fenomeni della seconda mutazione consonantica sia per quello che riguarda le occlusive sorde sia per quello che riguarda la desonorizzazione dell'occlusiva sonora che appunto era un AB nel germanico e quindi qui noi abbiamo come dire la fonetica che ci fa pensare a Longobardo se vogliamo ma la semantica io non la considero sempre molto pericoloso come criterio però noi sappiamo che ci sono molti termini della caccia che sono entrati dal Longobardo e poi anche le attestazioni perché è una voce che è attestata nel friurano nell'arco alpino che va dal Lombardo orientale al Trentino orientale quindi qui abbiamo anche la geolinguistica se ci sono più come dire criteri che vanno in una stessa direzione la cosa non manca poi qui mostro due casi in cui noi abbiamo due coppie una con la sorda e una con la sonora una forma è balco palco che sono assegnate tutte e due a Longobardo come è stato anche detto prima nel Longobardo noi individuiamo una fase più antica ed una fase più recente quindi non è detto che tutto quello che presenta un'occlusiva sonora non sia assolutamente non sia un longobardismo in questo caso noi abbiamo la voce balco attestato anche nel francese antico soltanto che nel francese antico noi abbiamo attestazioni abbiamo una semantica che è molto diversa perché vuol dire solo trave pezzo di legno da costruzione viene usato spesso per indicare la costruzione per imbarcazioni quindi asse che vengono usate per le imbarcazioni nel caso invece delle voci che noi abbiamo in italiano già nel medioevo e addirittura anche addirittura nel latino medievale barese già nel latino medievale addirittura nel latino medievale barese il termine vuol dire subito quello che poi diciamo da noi diventa il balcone cioè il palco una grande abertura una finestra della bottega per cui è qui appunto anche Sabatini faceva questa ipotesi anche se noi abbiamo qui una occlusiva sonora per motivi che insomma che riguardano la semantica consideriamo anche che nel latino qualoringio non abbiamo nessuna attestazione di questo sostantivo e che queste occorrenze comunque sono della Francia settentrionale Picardie e la regione della Vallonia quindi diciamo che non ci sono come dire motivi per accogliere balco fra i longobardismi e poi aggiungiamo anche che balco con la sorda è invece ha un'enorme diffusione molto più frequente ed è molto presente non a caso a sud questi sono dei casi quando io trovo una forma desonorizzata al sud che mi fanno appunto pensare a quello che si parlava prima della maggiore durata dell'uso della lingua longobarda o comunque persistenza almeno a livello familiare della lingua longobarda nel sud perché è al sud che io trovo spesso la variante con l'occlusiva sorda che per quanto riguarda gli esiti della seconda mutazione consonantica sicuramente da datare dopo non ho fatto invece lo stesso ragionamento per un'altra coppia bank e punk da cui vengono i vari panca e così via perché qui in realtà noi abbiamo la forma con la sonora sappiamo che ci sono stati dei contatti con il latino carolingio e quindi qui le fonti tardolatine la geolinguistica e la semantica che è la stessa non ci autorizzano a escludere una mediazione mediazione dal 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 francone e prima io accennavo accennavo all' all'alternanza di forme con la sorda e la sonora e alla presenza di forme con la sorda soprattutto al sud e qui è interessante notarlo nel caso di biga bica mucchio di covoni qui scusatemi no qui ho una variante bica più tarda che si registra soprattutto nell'Italia centro-meridionale e in parte nella Toscana laddove invece nella nella Toscana e nella parte settentrionale abbiamo la variante con la sonora biga e quindi qui ugualmente io mi trovo ad un esponente ad un lemma con una doppia forma la seconda è una variazione sì diacronica perché più tarda però come nel caso che abbiamo visto prima spesso qui la variazione diacronica finisce per sovrapporsi alla variazione diatopica nel senso che queste forme sono poi più documentate al sud anche qui biga un'altra voce che poi entra anche in Dante abbiamo un'altra coppia su questo nottorno perché super studiata super super descritta ma non potevo non menzionarla che è la coppia braio plio per panno lenzuolo perché questo è un altro secondo me chiarissimo esempio di quello che dicevo prima cioè variazione di un longobardo che si desonorizza nel corso del tempo e le forme desonorizzate le troviamo al sud e ovviamente qui la documentazione è enorme perché trattandosi di beni che vengono elencati nei beni dotali i codici qui come sappiamo il corredo soprattutto al sud ancora adesso è diciamo un elemento importantissimo un'altra tipologia di esempi sono scusate ho quasi finito comunque un'altra tipologia di esempi riguardano riguarda tutti gli attrezzi legati alla lavorazione del legno quelli che abbiamo visto prima il barco il banco già sono degli esempi che accanto a questi possiamo aggiungere anche la bara inteso come attrezzo in legno per trasportare qualcosa questo è il suo significato originario che per il suo vocalismo tonico e la sua distribuzione rimanda ad un longobardo appunto bara qui è il vocalismo che me lo fa identificare questo caso perché lo voglio citare perché in realtà noi abbiamo in questo caso anche una forma gotica vero e questa forma gotica in realtà poi viene soppiantata dal longobardo e rimane diciamo con una specie di zona relitto in una parte nel nord-est dell'Italia dove poi assume anche una specializzazione semantica perché finisce per l'indicare soltanto la parte posteriore del carro questo l'ha studiato molto bene Pellegrini anche ha scritto un bellissimo articolo su questo invece l'esempio di Branz e Branda mi interessava perché qui è uno di quei casi in cui noi abbiamo un elemento lessicale che entra anche nell'onomastica appunto dell'onomastica l'onomastica e lessico spesso si intrecciano lo diceva anche prima Abrix perché i nomi sono nomi parlanti e qui la cosa interessante è che noi abbiamo nella lingua italiana abbiamo uno strato antico Branz che è conservato in relitti dell'area ticinese e ladina dove Brando mantiene questo suo significato originario di pezzo di legna ad ardere e anche da pezzo di legna ad ardere si passa anche ad indicare come si chiamano gli alari del caminetto quindi qualcosa che ha a che vedere con la legna del caminetto ma questo strato poi è stato consolidato nell'estico italiano dall'apporto del Longobardo dove appunto avevamo questo sostantivo Branda il problema è che Branda nel Longobardo poi non vuol dire tizzone ma vuol dire ovviamente spada da cui poi il lessico italiano Brando e questo è un caso interessante perché poi la diffusione di Brando come spada viene viene favorito dal contatto linguistico anche con la tradizione dei poemi cavalerischi galloromanzi che hanno preso questa voce dal Francone dove Branda aveva appunto il significato di lama quindi qui noi abbiamo come dire un intero arco delle tre varietà che mostrano delle tre varietà germaniche che mostrano molto bene quanto possono essere compressi e intriganti le le storie le storie di parole quindi come dicevo prima ogni parola ha una sua biografia ha una sua vita proprio come come gli esseri umani ha una storia a sé e quindi questo è il motivo per cui poi questo tipo di lavoro è un lavoro interessante anche se molto come dire certe volte anche molto faticoso perché richiede la considerazione di argomentazioni più ampio possibile per evitare di dare come diceva prima Federico il longobardo non è la sporta notarallaro per cui quando non si sa a che cosa attribuire una parola si dice che è il longobardo e quindi l'indagine va fatta in maniera molto 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 accurata tenendo presente l'ho accennato prima nell'intervento che ho fatto in coda alla bella conferenza di Salvatini tenendo presente appunto anche la presenza dei bizantini io qui avevo preparato una slide dove citavo alcuni lavori appunto di Ioannes Kramer dedicati proprio a grecismi e a rapporto fra grecismi e e e e ora adesso stiamo lavorando agli etimi che derivano dalle consonanti dentali di avere una casistica ancora più ampia e di poter mettere altri tasselli a questa storia del 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 longobardo che ha lasciato come abbiamo visto termini che fanno parte molto spesso del nostro lessico comune e questo a mio avviso è un altro elemento a favore della pervasività del contatto linguistico tra i longobardi e la popolazione della penisola se io penso a quello che è successo con i normani in inghilterra sappiamo che nel lessico quotidiano nel vocabolario di base inglese non è entrato moltissimo del patrimonio latino romanzo e quindi a mio avviso anche la tipologia di lessico longobardo ecco quindi perché bisogna cercare il più possibile di individuare quello che effettivamente ha a che fare diciamo così con la presenza longobarda in Italia io qui vi ringrazio per la pazienza e concludo con questo divertissement di Giampaolo Dossena giornalista esperto in giochi con le parole che nel 1993 nella sua rubrica sul lunedì sul venerdì di Repubblica scrisse questo testo utilizzando come lui spiegava nell'accompagnamento al testo soltanto parole parole germaniche qui io potrei aprire ci potrebbe aprire il tema per un'altra conferenza perché guardate che le parole che venivano utilizzate per parlare dell'influsso germanico sono tutte parole che hanno a che fare con atteggiamenti violenti con aspetti violenti ma questo può essere come dire è un tema che richiederebbe come dire un altro intervento e come dicevo all'inizio per fortuna le cose sono parecchio cambiate negli anni grazie mille per la vostra pazienza grazie molto bella e molto istruttiva la tua la tua lezione io ora come al solito non vedo chi ha chiesto la parola quindi chiedo l'aiuto di Rosanna no io Federico se sei d'accordo io direi di passare alla relazione di Nicola De Blasi e poi di fare la discussione congiunta sui due interventi se sei d'accordo posso chiedere a Elida di togliere la condivisione pensavo di averlo tolto scusami ah ok va bene adesso si è tolta Rosanna si si grazie 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 allora Nicola ecco Nicola e allora adesso io ho il piacere veramente il piacere di presentare Nicola De Blasi che è un amico a cui mi legano 40 anni di colleganza Nicola De Blasi è una figura ben nota nell'ambiente napoletano e non solo quindi certamente i presenti napoletani lo conoscono bene però mi fa piacere per gli ospiti che non sono napoletani e che non hanno avuto occasione di incontrare Nicola in congressi o in altre situazioni culturali e scientifiche di presentare il suo profilo scientifico e poi vorrei dire anche qualche cosa su quello umano perché anche quello fa parte della personalità insomma di colleghi e amici e Nicola De Blasi ha avuto e ha interessi a tutto tondo come storico della lingua italiana storico filologici ha pubblicato edizioni di testi importanti come il libro della destruzione di Troia il crescentesco che è un testo molto importante per la storia del napoletano e non solo per la storia dell'Italia meridionale e poi ha pubblicato anche testi documentali le 20 lettere mercantili meridionali e toscane del primo quattrocento ma anche testi che hanno un grande interesse storico culturale specificamente napoletano come l'ogliomero e fatiche di anni più recenti dell'inizio degli anni duemila la grande edizione critica del teatro di eduardo de filippo per mondatori a questi interessi di edizioni di testi e commenti interpretazioni dei testi si affianca poi un interesse dialettologico di lungo periodo sono numerosissimi i suoi interventi in questo senso vi dico soltanto che i suoi interessi lessicologici e lessicografici lo hanno portato a occuparsi di parole come scugnezzo ma questo è veramente un po' un emblema recente perché ripeto sono decine e decine i suoi interventi di lessicologia dialettale meridionale e poi si è occupato di italiano regionale di letteratura italiana per generi ha pubblicato profili di varie regioni italiane profili linguistici della Basilicata della Campania una importante storia linguistica di Napoli insomma non dico niente sulle sue cariche scientifiche in ambienti napoletani nazionali ma invece vorrei dire qualche cosa se Nicola me lo consente anche in una maniera scherzosa sul suo profilo umano e culturale le due cose vanno sempre di pari passo e credo di avere capito mai così bene come nella sua frequentazione che cosa voleva dire Antonio Maccanico molti anni fa allora politico di primo piano in Italia quando diceva che tre quarti dell'intelligenza politica italiana è irpina e devo dire che Nicola è un punto di riferimento all'interno della Federico Secondo in cui ha cariche anche di responsabilità e credo di aver capito con lui che cosa voleva dire Antonio Maccanico Nicola stasera ci parla di sue ricerche di suoi lavori e farà delle considerazioni su aspetti lessicali molto interessanti che toccano la tematica di questo ciclo di seminari grazie voglio ringraziarlo di aver accettato di intervenire oggi pomeriggio a te Nicola grazie grazie Rosanna per per questa intensa e in parte veritiera presentazione e passo allora eh al mio intervento chiarendo però che più che toccare eh sfioro il tema di questi di questo seminario poiché non ho le competenze per entrare direttamente nell'argomento eh lingua e cultura dei longobardi posso parlare al massimo diciamo dal punto di vista eh dei riceventi dei riceventi di parole longobarde in un certo senso e dei riceventi di divulgazione che riguarda i longobardi quindi rispetto ai temi che sono stati trattati anche stasera diciamo mi colloco eh ad alcuni secoli di distanza eh ma forse anche in sintonia con quanto diceva poco fa Elda eh nella convinzione che delle parole appunto bisogna conoscere la storia e che come si vede mirabilmente da lei o anche da altri esempi lessicografici più recenti come il WSS di Alberto Varvaro occuparsi soltanto di etimologia sarebbe come fissare la biografia di un personaggio indicando solo la data di nascito al massimo il luogo di nascita in realtà in realtà appunto mi piace molto l'idea della biografia delle parole come storia di parole e quindi a questo punto con minore timore considero anche qualche storia sparuta di di una parola in particolare e presento anche qualche riflessione più in generale diciamo mettendomi appunto nella prospettiva di chi voglia acquisire notizie sui Longobardi e su alcuni aspetti particolari quindi a questo punto condivido lo schermo perché presenterei due esempi diciamo in particolare due casi e poi tratterei la storia di una parola ecco credo che si veda comincio quindi dalla seconda parte del titolo problemi di divulgazione e alte storie qualche anno fa è stata presentata in diverse città d'Italia una mostra che è giunta anche a Napoli con questo cospicuo catalogo del quale appunto ho indicato il numero di pagine è un catalogo molto bello così come era molto bella interessante la mostra che credo sia stata vista da molte persone devo dire devo dire però che di questo popolo che cambia la storia a proposito di questo popolo che cambia la storia resta alla fine un interrogativo ci si domanda cioè quale posizione abbia avuto questo popolo nella storia linguistica e resta la curiosità di sapere che cosa può aver fatto questo popolo di Longobardi nella storia linguistica italiana che sembra non essere stata sfiorata dai Longobardi voglio dire insomma per non restare così un po' nel vago e per diventare più chiaro che con una certa sorpresa ho notato che in questo catalogo in 525 pagine non erano mai menzionati i placiti capuani certo la mia ovviamente è una visione campana sicuramente provinciale di chi considera i placiti capuani e cassinesi come qualcosa di importante ma evidentemente non è un parere generalmente condiviso quindi non c'è nulla sui placiti ai quali ogni tanto gli storici della lingua dedicano un minimo di attenzione e quindi ecco questo è quello che si legge sui placiti secondo punto invece da una divulgazione per così dire che lascia molte curiosità ce n'è un'altra che invece risolve tutte le curiosità e da tutte le risposte possibili mi riferisco a tutto ciò che si trova nella rete diciamo la rete che presenta e in particolare alcuni settori della rete che presentano quello che ormai possiamo definire purtroppo la cultura degli italiani cioè quel che succede in rete quel che viene scritto in rete in fondo è ciò che poi la gente viene a sapere su alcuni argomenti ecco allora se da un lato non troviamo informazioni sui placiti nell'enciclopedia spontanea e popolare quindi attendibilissima alla luce delle ultime prospettive culturali che ci riguardano che riguardano l'Italia ecco che cosa troviamo che cosa sono diventati i placiti dal marzo 960 al marzo 2021 ecco il placito di capo in particolare è un documento in cui tre testimoni deposero a favore dei benedettini indicando con un dito i confini del luogo che era stato illecitamente occupato da un contadino dopo la distruzione dell'abbazia nell'885 da parte dei Saraceni in questi righi c'è anche qualcosa di corretto la cosa che sorprende ecco da lettore è la presenza di questo contadino e i contadini ogni tanto appaiono come protagonisti insospettabili di questa vicenda del del placito talvolta come occupatore in questo caso talaltra come testimoni chissà perché appunto talvolta vengono chiamati in causa i testimoni che invece sappiamo come ci ha ultimamente ricordato anche Domenico Proietti insomma non hanno questo profilo culturale da contadino i testimoni eppure sono presentati così ogni tanto consulto questa pagina e vedo che il contadino come dire è una è un protagonista stabile sapete che queste enciclopedie vengono possono essere modificate continuamente ebbene sul contadino nessuno mai ha avuto nulla da da eccepire questo contadino però doveva essere veramente una persona di enorme resistenza visto che da solo aveva occupato nell'885 un terreno che poi evidentemente ha detenuto fino al 960 quando finalmente i Benedettini grazie ai testimoni che indicavano con il dito i confini del luogo lo hanno diciamo cacciato dal terreno illecitamente occupato come ci ha ricordato Domenico Proietti qualche settimana fa e come è noto in realtà questo terreno occupato dal contadino corrisponde a 20.000 ettari di superficie cioè a 200 chilometri quadrati un contadino come dire di eccezionale longevità e anche di invidiabile energia di una forza lavoro insomma davvero incredibile bene questo al di là dell'ironia purtroppo che maschera un profondo disagio significa che queste sono le notizie che qualsiasi studente qualsiasi lettore occasionale riesce a individuare in rete se è preso da una curiosità relativa ai placiti ecco quindi il contadino che occupa 20.000 20.000 ettari e che mette in crisi un'intera abbazia nell'anno 960 ecco rispetto a ciò come dire purtroppo la nostra manualistica e ancora più i nostri saggi specialistici hanno pochissime possibilità di diciamo di spuntarla prima o poi la verità sarà questa insomma il contadino contro un'abbazia c'è anche qualcos'altro come vengono presentati i placidi dal punto di vista linguistico in rete vengono presentati in rapporto a quella che viene definita lingua napoletana che in questa premessa che ha molto di diciamo una cautela veramente non richiesta che comunque nasconde qualche cosa insomma è la lingua napoletana che non deve essere confusa con il dialetto napoletano qui in questa platea formata prevalentemente da linguisti da filologi non credo che sia possibile capire che cosa c'è scritto qui ecco perché sono veramente nozioni un po' lontane dalle nostre prospettive pur diverse dalle nostre prospettive disciplinari quindi è un qualcosa che è ma non è la lingua napoletana è napoletana ma non è uguale al dialetto napoletano e in ogni caso si estende in tutta l'Italia meridionale e questa è la prospettiva diciamo che ricaviamo ed è ormai convinzione diffusa ecco questo ormai lo possiamo dire se il contadino dei placidi non appassiona molto i lettori questi invece sono temi che appassionano moltissimo i lettori e i naviganti in rete che si formano così questa idea non possiamo dire questa precisa idea perché non è precisa ma si formano questa idea e insieme con questa se ne formano anche un'altra che cioè la letteratura napoletana comincia con i placidi cassinesi prosegue a Monte Cassino e come dire sarebbe questo primo passo ma poi il terzo come vedete è che la letteratura napoletana prosegue con la scuola siciliana ecco e poi via via giù giù fino alla alla fino alla letteratura diciamo Basile Cortese fino alla canzone canzone napoletana teatro eccetera quindi una linea dai placiti alle canzoni quindi ecco questa è la situazione dal punto di vista della della divulgazione insomma questo centra poco con i longobardi ma centra molto su sulla sulle necessità diciamo sull'impegno divulgativo che bisognerebbe spendere in questa direzione e in tante altre affini a proposito di divulgazione quindi parliamo anche di divulgazione con mediazione scientifico almeno con mediazione che tiene conto di di competenze specifiche tratto ora la storia di una parola riconosciuta ormai come longobardismo è questa parola riconosciuta come longobardismo è interessante perché permette di riflettere non tanto sulle origini della parola quanto sulla diffusione della parola nelle aree dialettali sulla sua presenza in italiano e in particolare nella lessicografia dell'italiano come vedete a partire dal vocabolario della Crusca 1612 e anche nelle successive edizioni fino alla quinta esclusa ed è interessante questa come sono come sono interessanti anche altre parole tra quelle che sono state ricordate stasera penso in particolare a a struffoli di cui ha parlato Francesco Sabatini ecco sono parole per le quali va ricostruita la storia anche dei secoli più vicini a noi e sicuramente è un lavoro che per quanto mi riguarda torna di attualità per il dizionario etimologico storico del napoletano a cui sto lavorando con Francesco Montuori e con altri autori collaboratori e quindi diciamo nel dizionario ci sarà anche spazio con queste parole per queste parole anche per i longobardismi naturalmente sarà un'ovvia cautela degli autori del dizionario attendere che siano preparati tutti i fascicoli dei germanismi a cura di Elda Morlicchio per poter avere poi un punto di riferimento sicuro e anche per trovare diciamo notizie certe che alle volte però si prestano anche a riflessioni aggiuntive ecco nel caso particolare qui troviamo una parola nella quale tra l'altro mi sono imbattuto un po' per per competenza diciamo di dialetti campani e un po' perché mi son trovato devo dire grazie anche a Federico Albanoleoni alcuni anni fa mi son trovato a indagare su alcune forme in provincia di Teramo dove mi imbattei appunto in questo stesso tipo lessicale però devo dire che trovare il tipo lessicale nei rialetti della provincia teramana non mi sorprese molto invece mi sorprese moltissimo trovare questa parola dialettale o almeno una sua variante nel vocabolario dell'Accademia della Crusca dove appunto normalmente i dialettalismi come dire non dovrebbero esserci salvo casi particolari e questo era appunto un caso particolare perché la parola è presente in Giovanni Villani che racconta l'omicidio del re Andrea marito di Giovanna prima morto giovanissimo o meglio ucciso giovanissimo appunto in una diciamo in un agguato durante il quale fu precipitato diciamo in verità sembra che sia stato prima ucciso e poi sospeso a questo gueffo il gueffo cioè sporto sopra il giardino la stessa voce si trova poi nel Tommaseo Bellini con addirittura un ampliamento perché poi nel vocabolario della Crusca nell'edizione successiva fu aggiunta anche un'ulteriore citazione presente in Matteo Villani qui c'è da segnalare una cosa singolare perché il vocabolario della Crusca ovviamente registra la voce in quanto presente nella cronaca di Villani a un certo punto però nella quinta edizione la parola non è più presente queste citazioni sono presenti soltanto sotto la voce prego no Nicola c'è stata un'interferenza qualcuno ha il microfono aperto va bene vai questa parola queste voci le citazioni sono presenti soltanto sotto la voce sporto quindi vuol dire che per il vocabolario è stata notata come dire la caratteristica dialettale di questa voce da un certo punto in poi ma ormai questa parola anche se con il segno dell'arcaismo cioè con queste croci sia nella variante gheffo sia nella variante gueffo la parola era entrata nel Tommaseo Bellini quindi a quel punto è rimasta diciamo nella strada maestra della lessicografia italiana dove già c'era peraltro nelle precedenti edizioni della Crusca quindi l'autoritas delle prime edizioni della Crusca hanno poi trasportato la parola anche nel Tommaseo Bellini addirittura nel Pietro Fanfani nel dizionario della pronuncia toscana che quasi fa credere che la parola possa essere presente anche in in toscano vivo diciamo visto che si parla di pronuncia la parola poi meno sorprendentemente è nel Dei che da informazioni anche importanti per quanto riguarda l'area per quanto riguarda l'etimologia vedete e anche per quanto riguarda alcune diverse caratteristiche di semantiche perché si parla di altana si parla di pianerottolo e poi per gueffo invece singolare appunto le voci a questo punto diventano tre anche per sporto di fabbrica terrazza eccetera quindi c'è una specie di intreccio tra forme provenienti da da spogli di di testi medio latini oppure da conoscenza dei dialetti perché appunto il tipo gaifo è presente in area calabrese oltre che in area campana queste forme diciamo di provenienza per così dire dialettale si incrociano con quelle che invece provengono dalle attestazioni trecentesche riportate già dagli accademici della crusca e poi ritroviamo gueffo anche nel dizionario di battaglia che poi rimanda alle altre due voci gaifo e gheffo quindi è una situazione in cui questa parola sembra insomma presente in italiano letterario questa è l'uccisione di re Andrea come si vede come si legge nella cronaca e è interessante notare che evidentemente sia Giovanni Villani sia Matteo Villani riprendono la parola da una loro fonte forse perfino da notizie come dire dal momento che la morte di re Andrea come sappiamo ha poi causato diciamo è stato un evento con uno strascico notevole nell'epoca e quindi veniva circolava insomma questa parola nel caso dell'uccisione ma anche nel caso della vendetta il gueffo però è accompagnato da una glossa in un caso è anticipata la glossa qui invece è successiva il gueffo cioè sporto sopra il giardino questa sistemazione della parola fa capire che i cronisti sia Giovanni sia Matteo Villani avevano ben chiara la natura locale di questa parola ma o per fedeltà o perché gli sembrava significativa questa parola la usano e poi aggiungono la glossa e questo questo è poi un altro episodio che si realizza questa volta con il re Luigi del gheffo che viene scioccamente caricato tanto che crolla qui probabilmente dovremmo forse più avanti se riesco un po' a rispettare i tempi riusciremo anche a vedere una fotografia del gheffo naturalmente non questo del castello di Maddaloni ma uno più recente il gheffo era probabilmente di legno e quindi diciamo entriamo in questa prospettiva della cultura materiale a cui alludeva prima appunto Francesco Sabatini all'etimologia della parola ha dedicato un'osservazione Rolfs però il tipo è già presente anche Francesco Sabatini fa un accenno in questa in questa direzione ecco come vediamo qui e lo stesso Sabatini segnalava già diversi significati vicolo ballatoio terrazzino pensile bastione tutti significati collegabili all'idea di uno spazio comune quindi in un modo o nell'altro uno spazio che si colloca tra dentro e fuori la parte immediatamente perimetrale di un edificio il vicoletto insomma che costeggia una casa terrazzino pensile che è il ballatoio di accesso oppure la terrazza sotto il tetto quindi a un livello più alto nell'edificio probabilmente come quella da cui caddero le persone appunto nel castello di mandaloni questa parola ha una sua vitalità nei dialetti o almeno ha avuto una notevole vitalità fino a tempi recenti ora si pone un problema che appunto per questo e per altri casi affronteremo anche nel dizionario etimologico storico napoletano e cioè che con la storia delle parole bisogna anche in qualche modo segnare l'epoca in cui una parola entra in crisi in questo caso il tipo lessicale ha ancora vitalità diciamo nel presente sia pure residuale nei dialetti tra Campania Calabria e Abruzzo sicuramente ma non ha più la sua vitalità in napoletano e vedremo anche diciamo come si presenta la situazione questa intanto è quella che troviamo nel nell'AIS dove troviamo appunto per l'area di Monte di Procida il tipo con la palatalizzazione che probabilmente è la stessa palatalizzazione che si trovava nella zona di Aversa e di Maddaloni dove l'anno diciamo dove la parola ha conosciuto questa sua iniziale per così dire con la con la tragedia del re Andrea invece si è segnata diciamo ha avuto inizio la storia letteraria di questa parola che è entrata nelle cronache con la sua forma con la forma che probabilmente aveva in terra di lavoro in quella zona della terra di lavoro dove c'è effettivamente una palatalizzazione come c'è a Monte di Procida in questo caso per questo tipo lessicale lo troviamo appunto documentato direttamente a Monte di Procida mentre vedete nella nella campagna diciamo settentrionale qui è documentato il tipo ballaturo che appunto anche questo è un elemento che va registrato nella storia di una parola evidentemente a un certo punto il tipo lessicale gaffio gueffo nella campagna settentrionale deve essere stato soppiantato dal tipo ballatoio e quindi non lo troviamo più un secolo fa però lo troviamo a Monte di Procida con la palatalizzazione e in area diciamo irpina con il tipo afio questa invece è la zona abruzzese sull'etimologia è intervenuto poi in tempi più recenti Pfister segnalando una un etimo diciamo una base di partenza leggermente diversa da quella che veniva segnalata in precedenza e Mastrelli ha sottolineato non a proposito del tipo gaffio gueffo ma a proposito di altre parole appunto il nesso tra etimologia e cultura cioè le tecniche costruttive il legno che ha caratterizzato le costruzioni longobarde quindi almeno in questo caso nei dialetti forse più che nell'italiano letterario come appunto come ci insegnano i germanisti qui presenti è possibile che nei dialetti restino germanismi non strettamente connessi all'ambito della guerra o della forza fisica appunto quelle forme molto marcate a cui faceva riferimento Elda Morlicchio qui troviamo un semplice nel caso del tipo vafio insomma troviamo un un longobardismo abitativo diciamo che ci riporta proprio alla vita quotidiana nel senso di abitazione in quelli che poi saranno i centri appenninici che tra di loro conservano anche delle somiglianze di fondo in questo caso appunto tra Calabria e Abruzzo troviamo questo tipo lessicale che si conserva queste sono attestazioni negli statuti di Teramo del 1440 quindi a Teramo era usato ed era consentito ai venditori sospendere la merce ai ai gaifi viceversa non era più possibile a Napoli ecco troviamo i primi segni di una crisi della parola a Napoli perché entra in crisi l'oggetto l'elemento proprio architettonico dopo l'arrivo a Napoli di Don Pedro de Toledo che come sappiamo ha avuto un ruolo determinante nella definizione della struttura urbanistica della città quando ha costruito i cosiddetti quartieri spagnoli per accogliere per accogliere le sue truppe ma a parte ciò insomma a parte questa attenzione a questo ruolo importante nella costruzione delle parti nuove della città c'era anche un'attenzione a diciamo al alla salvaguardia della sicurezza i gai le pennate e i banchi e qualsiasi intelaiatura che si sporgesse dalle porte dagli usci diciamo dalle case era considerato un elemento pericoloso perché poteva dar luogo a facili riparo per malfattori e quindi si dava più riprese si dava ordine di abbattere queste costruzioni esterne che ancora una volta possiamo dire erano probabilmente ancora strutture linee quindi dal 1533 la parola comincia ad avere dei cedimenti a Napoli e cominciamo diciamo capiamo anche che un riflesso di questa crisi della parola si riconosce anche nell'incertezza della grafia perché in alcune edizioni del Basile lo punto degli Conti e nel vocabolario di D'Ambra vocabolario dialettale del 1873 troviamo la forma Gaiso quindi uno scambio di lettera vuol dire che la parola non è stata letta bene già nel settecento nel vocabolario di D'Ambra del 1800 segno che almeno per questi parlanti napoletani la parola risultava ormai estranea al lessico vivo del dialetto napoletano ritorna nella sua forma possiamo dire la ritroviamo poi in Altamura che naturalmente poteva già valersi di una lessicografia che già c'era prima al tempo di D'Ambra ma Altamura evidentemente aveva anche esempi più recenti a cui rifarsi come probabilmente il Dei stiamo parlando di dizionari dialettari di Altamura 1960 così Dascoli sempre dizionario etimologico 79 e 93 e queste sono le attestazioni in Basile dove è presente la parola e si parla di Gaifo probabilmente qui nel senso di loggia loggia esterna a una casa appunto perché su questo Gaifo ci saranno sette donne a filare quindi una grande loggia lo stesso qui da questo contesto non si capisce bene se si tratti di una loggia oppure di un terrazzino del palazzo comunque è un qualcosa che diciamo si trova sempre sulla facciata la parola è poi presente nel vocabolario vocabolario napolitano di Emanuele Rocco che è stato pubblicato a cura di Antonio Vinciguerra nel 2018 per la parte rimasta manoscritta in origine però come sappiamo è una parte manoscritta che Emanuele Rocco aveva scritto nel 1891 e poi questo manoscritto era nel corso del novecento è stato trasmesso all'Accademia della Crusca dove appunto Vinciguerra lo ha studiato lo ha trascritto e ora lo possiamo leggere appunto nell'edizione recente del vocabolario Emanuele Rocco che era traduttore filologo lessicografo di grande esperienza si accorge anche che in qualche caso la forma Gaifo è stata scritta male come Gaiso e in più Rocco dà anche le attestazioni a lui note rispetto a queste attestazioni credo che pochissimo ci sia da aggiungere dal punto di vista del dizionario etimologico napoletano per quanto riguarda il napoletano la storia è in parte ricostruita anche da Vinci Guerra appunto che integra vediamo adesso come si presentavano nelle diverse aree dell'Italia meridionale questi Gaifi questo è in provincia di Teramo appunto terrazza sotto il tetto si riconosce la struttura linea è molto simile a questo doveva essere il terrazzo da cui viene sospeso e strangolato il re Andrea così come così doveva essere il Gaifo da cui cadono re Luigi e gli altri suoi diciamo cortigiani angioini questo invece è Gaifo nel senso di porta di ingresso dell'abitato anche qui tra dentro e fuori questo è un Gaifo ristrutturato sempre nella stessa località abruzzese e questo invece è in Calabria dove si riconosce questa struttura alloggia e si riconosce anche una specie di diciamo identificazione della parola come una specie di tipo lessicale totem perché vedete qui si capisce che è stato anche il nome dell'oggetto è stato addirittura inciso e affisso sulla facciata dell'edificio quindi a sottolineare la rilevanza di questa parola questo invece è l'oggetto così come si presenta in alcuni centri irpini mentre per procida sappiamo che è stato pubblicato per ben due volte nel 1976 ed in 2000 il vocabolario vefio folk glossare del dialetto procidano dove anche qui la parola è un po' una parola emblema del dialetto come abbiamo visto a San Lucido parola emblema che si lega a un elemento architettonico quindi dovrebbe essere un elemento stabile però abbiamo visto già nel caso di Napoli nel 500 che gli elementi architettonici possono essere anche soggetti a improvvisi momenti di crisi poi sappiamo purtroppo da ripetuti terremoti che hanno coinvolto le aree campane le aree abruzzesi si sa che anche alcuni elementi architettonici sono andati completamente in disuso nel corso degli ultimi decenni e quindi ecco è una parola che si va perdendo proprio perché cadono alcune strutture per così dire architettoniche ma anche alcune abitudini abitative quindi è un prestito che dai dialetti viene preso viene trasmesso alle cronache e dalle cronache arriva nei vocabolari e diciamo nei vocabolari italiani dove continua questa sua vita plurisecolare diciamo dal 1612 fino alla fine del novecento in in battaglia però sappiamo che poi la storia della parola in dialetto è una storia che segue un'altra strada e quindi diciamo è un piccolo esempio che ci permette di vedere attraverso un longobardismo come i dialetti e l'italiano letterario abbiano questi momenti di congiunzione di contatto che sono forse più frequenti di quello che in genere viene raccontato parlavamo prima di divulgazione noi lo sappiamo che ci sono questi momenti di contatto ma nella prospettiva divulgativa si tende spesso a presentare i dialetti e la lingua italiana come se vivessero su pianeti separati e invece un piccolo esempio come questo ci dimostra che non è vero quindi vi ringrazio e vi prego di scusarvi per la lunghezza grazie Nicola perché ci hai fatto vedere in una maniera chiarissima quante convoluzioni ci possono essere di rapporti tra lingua nazionale e dialetti e in particolare ci hai fatto vedere in una maniera suggestiva come i i longobardismi si possano acquattare o annidare in livelli che non sono molto apparenti molto visibili sul piano nazionale e questo li rende tanto più interessanti grazie ancora Federico allora noi apriamo la discussione a te Federico Federico hai il microfono spento Federico scusate dovrei raccogliere le iscrizioni a parlare sulla relazione di Elba così non so se tu vedi che c'è Paolo Ramat che ha alzato la mano eh no non lo vedo sì e allora allora do la parola a Paolo Ramat Paolo scusa io non vedo queste mani che si alzano quindi agisco su indicazioni di Rosanna no c'è stato un po' su Edda non ha niente da dire se non congratularmi molto perché è stata estremamente efficiente chiara nella sua nella sua relazione avevo alzato la mano e aperto il microfono semplicemente per ringraziare invece il secondo oratore ma è approfitto del momento per ringraziarlo per quello che ci ha fatto vedere in una modesta vicenda ringraziarlo per un'altra cosa un'altrettanto modesta vicenda che mi ha occupato per mesi e nella quale lui assieme a Rosanna Sor Nicola sono stati per me di grande aiuto cioè la storia della parola magari magari vi ricordate che mi avete aiutato su magari va bene nient'altro da dire basta bene rispondo solo per dire che magari aspetto di sapere tutto quello che devo imparare su magari adesso perché diciamo poco ho fatto ma molto vorrei imparare anch'io anch'io ok Federico vedo vedo la tua mano alzata siamo dicevo siamo alle bozze e quindi abbiate ancora pazienza qualche tempo e poi leggerete magari magari leggerete magari bene bene Federico vedi che c'è Francesco Lomonaco ma lui ha il microfono spento grazie no arrivo una domanda alla collega Morlicchio che riguarda una questione che è emersa in maniera non evidente ma in alcuni in alcuni momenti un po' latente sul posizionamento del Longobardo tra il gruppo orientale e il gruppo occidentale poiché di recente nella riedizione della grammatica di Brown e Heidermann e poi prima anche Reichenstein avevano di fatto spostato il Longobardo al di fuori del gruppo dei dialetti tedeschi non ci credo molto però mi piacerebbe sapere da una longobardista di altissimo livello come la collega è quale può essere la posizione e se di fatto da una più accurata analisi del materiale Longobardo che può essere ricavato appunto da questa grande miniera dell'italiano può arrivare qualche dato ulteriore a rinfocolare questo dibattito a rinforzarlo in auge oppure di fatto a chiudere la questione rispondiamo a tutte le domande o raccogliamo prima rispondo volta per volta forse è meglio allora no ti ringrazio per questa domanda sì in effetti nella nuova edizione hanno riconsiderato la posizione del Longobardo ma mi sembra e credo che anche Wolfgang Albrecht che credo sia ancora collegato sia anche lui dell'opinione che ci sono prove sufficienti per pensare che comunque è una varietà che ha subito esiti della seconda mutazione consonantica quindi diciamo non ci sono a mio avviso motivi per non considerarlo una lingua con queste caratteristiche sì e chiaramente venivano dall'oriente ma poi sono entrati comunque subito nell'orbita dell'alto tedesco quindi io non io sono diciamo ritengo che ci siano dati sufficienti per e l'abbiamo visto credo anche oggi con l'onomastica poi lo mostro in maniera molto evidente credo che si possa dire che è una lingua che comunque ha avuto esiti della seconda mutazione consonantica e comunque per questo motivo io la metterei come dire nell'ambito dei dialetti come dire cosiddetti alto tedeschi che è una classificazione poi basata sulla presenza di caratteristiche fonetiche più che più che più che altro insomma grazie Rosanna se stai parlando è il microfono spento sì 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 vorrei fare una domanda a entrambi i relatori e cioè è possibile studiare la distribuzione areale nella penisola italiana dei longobardismi certo sì in particolare l'atelier del lei lo dimostra molto bene come potenzialità di ricerca perché io credo anche ascoltando sia Elda che Nicola mi veniva in mente una domanda ci saranno longobardismi come Vefio che non vanno al di sopra di una certa area per quello che possiamo sapere ma ce ne saranno altri che sono panitaliani magari con l'esclusione della Sicilia anche se io ricordo il lavoro che Alberto Barbaro aveva fatto su mafia quello è un caso di un presunto possibile longobardismo che paradossalmente e a dispetto di quello che si può immaginare sul carattere endogeno in Sicilia della parola mafia in Sicilia forse è stato importato da nord ma mi pare di intravedere dalle vostre relazioni che c'è moltissimo di interessante dal punto di vista di atopico che si può guardare sulla distribuzione dei longobardismi nella penisola avete vi pare che sia una cosa scontata che sia una cosa possibile che sia una cosa perseguibile lo chiedo a entrambi Nicola rispondi prima tu mi dammi in ordine alfabetico De Blasimo Reggio va bene grazie io penso sicuramente che proprio il metodo che indicava che indica è lei e che ricordava ora Elda è il metodo migliore per arrivare ad accertare anche questa variabilità di atopica perché sempre seguendo questa prospettiva si possono anche sondare dialetti meno indagati non penso tanto alle fonti certo anche le fonti medio latine possono dare informazioni di atopiche interessanti però alle volte per quanto riguarda per esempio la semantica soprattutto delle voci i dialetti possono aggiungere informazioni importanti e quindi permettere anche di arrivare a un quadro a una ricostruzione più articolata e d'altra parte però è anche vero che se questo è vero in generale poi caso per caso si può poi verificare volta per volta che cosa succede per i diversi tipi insomma quello che è stato fatto appunto per il modello del VSS è anche in questo caso esemplare insomma cioè non si può fare la storia di una parola in un singolo dialetto così come neanche la parola di struffoli ovviamente si può fare in rapporto al solo dialetto napoletano senza sapere che cosa succede fuori quindi è sempre importante come è anche emerso dalla discussione di oggi cercare tutte le attestazioni possibili quindi senz'altro sì direi no io concordo con Nicola aggiungo questo che diciamo uno dei vantaggi dei materiali di lei è che parte la ricchezza delle fonti e anche lo schema molto rigido di organizzazione dei materiali per cui una volta che un articolo è stato scritto si ha facilmente anche soltanto così a colpo d'occhio l'idea di la descrizione di come una determinata voce è distribuita sul territorio sul territorio italiano e quindi sicuramente questo è un lavoro insomma io quando quando dico queste sono voci tipicamente meridionali queste sono voci più settentrionali in effetti io oggi lo posso dire proprio perché ho gli articoli di lei che sono stati organizzati in un prevento mio perché questa era la struttura dell'essito etimologico italiano secondo uno schema geografico molto rigido che va da nord a sud da est a ovest quindi è molto facile seguire come dire la presenza di una voce diciamo che volendo si potrebbe anche trasportare fare un atlante linguistico insomma se uno avesse come dire la capacità tecnica per poterlo fare e avere quindi poi una visione immediata come dire un colpo d'occhio l'idea della distribuzione delle varie delle varie forme perché sicuramente c'è una una distribuzione dialettale che 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 in qualche maniera come dire segue delle linee segue dei percorsi posso? Grazie Posso? Sì sì Federico Io volevo fare un'osservazione sulla relazione di Elda mi sembra che è stato un bellissimo esempio di quanto può essere istruttivo il lavoro e la consultazione intelligente di un lessico etimologico fatto sul modello del lei perché Elda ha mostrato come questa è una miniera ricchissima di informazioni che vanno anche al di là della germanistica ma vanno proprio al cuore delle storie lessicali e la categoria della biografia delle parole della storia delle parole a me piace moltissimo tra parentesi ricordo che il sottotitolo del dizionario etimologico del latino di Nubi sembra il sottotitolo è Istua des mots è una categoria un concetto molto importante io ringrazio Elda di averlo ricordato poi tornavo un attimo siccome lo monaco ha chiesto sul problema della collocazione del longobardo nella dialettologia germanica volevo ricordare appunto la posizione di Scardinidi che è vero che Nilde Morquist a me mi è sempre sembrata un po' cervellotica però la fonte era molto autorevole allora Scardinidi riteneva di poter identificare nel materiale longobardo disponibile appunto antiponimi e toponimi e poche glosse uno strato più arcaico del longobardo che sarebbe stato gotico e quindi lui assegnava il longobardo all'area dei dialetti germanici orientali insieme al luogo però nel corso della sua storia appena il longobardo entra in Italia entra in strettissimo rapporto a volte anche per motivi dinastici con il mondo bavarese tirolese cioè con un'area di dialettologia germanica occidentale e in particolare soggetta alla seconda mutazione consonantica e quindi Scardinidi vedeva nel longobardo una storia di passaggio da un'area orientale da un consonantismo e un vocalismo anche essenzialmente orientali confrontabili con quelli del gotico a un'area invece poi occidentale di caratteristiche che noi sappiamo erano proprie dell'alto tedesco a un punto che oggi poi noi per identificare un germanismo se è gotico o longobardo diamo un grande peso naturalmente al consonantismo se c'è o non c'è la traccia della seconda mutazione consonantica quindi mi pare che Scardinidi scrisse questo in un libro di molti anni fa da un libro degli anni 70 che si intitolava goti e longobardi in Italia e quindi può essere una lettura che può incuriosire e ci si pone il problema della collocazione del longobardo e anche c'è il problema che la mutazione consonantica adesso si tende molto a descriverla come un fenomeno che non avviene in un momento solo avviene in maniera diversa in tempi diversi quindi anche questo ovviamente consente di rivedere un po' tutta la tematica da una prospettiva diversa certo e poi se è consentito volevo fare una osservazione scherzosa semi scherzosa all'intervento di Nicola che mi è piaciuto moltissimo perché Nicola con una leggerezza e eleganza intellettuali e dell'esposizione somministra in realtà una dottrina molto solida profonda e mette in vista in luce punti di vista e aspetti che magari uno trascurerebbe e quindi lo ringrazio ma sul gueffo volevo dire una cosa io sulla persistenza io ho abitato per vent'anni ai quartieri spagnoli abitavo in alto e quindi da una terrazza io vedevo i cortili interni e una serie di porzioni dei palazzi delle case che dalla strada non si vedevano e osservavo anche il fiorire di balconi pensili piccole logge che a un certo momento comparivano si faceva un buco si metteva una trave sporgente anzi due travi sporgenti su queste due travi sporgenti si appoggiavano delle travi diciamo così orizzontali e si era fatto un balcone che sporgeva che prima non c'era e che poi c'era poi su questo balcone magari ci si mette anche una copertura e quindi diventa una stanzetta aggiuntiva allora mi è venuto in mente quando tu hai fatto vedere la fotografia di quel gueffo di non mi ricordo dove si era la struttura in muratura poi quello in legno che sporgeva è esattamente quello che succede a Napoli allora e concludo la cosa scherzosa la disposizione del vicereddo un pedro di Toledo di abbattere i gueffi era una disposizione di risanamento edilizio perché tendeva ad eliminare cose che probabilmente erano delle sovrastrutture degli edifici e che non dovevano essere però qua sto scherzando però la prima parte di quello che ho detto sui quartieri spagnoli quello è vero i gueffi compaiono abbastanza facilmente specialmente durante le estate ho finito vedo la mano per il professor per il professor e cioè sul verbo python appunto da byte nel tedesco nell'antico alto tedesco abbiamo un passaggio dentale della dentale appunto un passaggio prima in post dentale e poi in alveolare cioè abbiamo una fase che i manoscritti di solito rappresentano con una zeta oppure con una zeta che poi continua con una gamba più bassa e tra l'altro ma piccola nota al margine nel cimbro si conserva proprio quella fase lì cioè quella fase molto antica in cui c'è una fase post dentale prima di alveolarizzarsi e di convergere sulla s del germanico come zonne salz eccetera allora volevo chiederle nella sua scelta di ricostruire la voce python con la s aveva più in riferimento i dialetti che ovviamente portano l'alveolare e quindi immagino però non è possibile anche nel longobardo pensare come dire ad una fase intermedia in cui il passaggio dalla dentale pura all'alveolare appunto una fase che poi troviamo anche nell'antico alto tedesco poteva essere trascritto con una z ecco volevo dire sì ho capito ho capito sì no questo effettivamente è possibile in realtà qui forse mi sono insomma la scelta che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo scelto anche di lemmatizzare è stata anche quella di pensare a quella che è un po' la resa poi in aria in aria protoromanza ne abbiamo visto prima anche nell'onomastica questo è stato un po' un po' un po' la scelta questo è stato il criterio che ci ha che ci ha guidati ok perfetto e invece al professor De Blasi anche qui più una curiosità ho visto avevo trovato avevo qualche riferimento che c'è anche in italiano o comunque nel nel basso latino un verbo viffare guiffare nel senso di aggiungere viene riportato perlomeno sembra in Zaccaria o anche in altri in altri autori e si rifà ad un verbo germanico weipan forse gotico che però ha il significato di incoronare o aggiungere filo a filo quindi non so volevo chiederle un commento così cioè mi sembra che veramente l'idea della della biografia della parola sia la prospettiva giusta perché in Italia poi non so al nord si ritrova molto il toponimo guizza ghizza che dovrebbe avere la stessa la stessa origine ecco se se poteva commentare questo diverso come dire esito alla parte irpina e napoletana invece rispetto al nord grazie mi pare che esista anche un un tipo viffa che dovrebbe avere a che fare con gomitoli o qualcosa del genere quindi può darsi che il caso che lei ricordava sia più su quest'altro versante infilare quindi diciamo potrebbe essere una poi magari in qualche caso ci possono essere state anche sovrapposizioni o incroci diciamo questo tipo effettivamente si trova in italiano appunto quello che diceva lei invece per quanto riguarda l'osservazione di Federico sicuramente è giusto che le superfettazioni ci siano tuttora direi un esercizio nazionale piuttosto diffuso nel caso però del del tipo gaifo a Napoli nel 500 quelli dovevano essere piuttosto a livello strada cioè loggie di accesso perché si parlava proprio di tenere libera la strada quelle altre invece balconcini terrazzini che spuntano all'improvviso forse si chiamavano in un altro modo ecco quindi questo spiegherebbe anche la crisi della parola insomma non non dell'abitudine anche anche adesso abbiamo casi di di sconfinamenti sul piano stradale insomma di di commercianti che invadono la strada con mercanzia ecco quello che a Teramo era concesso a Napoli dove sono molto più severi non era concesso nel 500 grazie grazie anche da parte mia grazie a lei grazie a lei per la domanda Federico io vedo che ha alzato la mano Alessandro Camiz tu lo vedi? no sì ecco mi sentite? sì sì dunque io premetto che non sono un linguista ma uno storico dell'architettura è un morfologo dell'architettura e volevo fare un'osservazione e una domanda la maggior parte di questi termini ancora in uso in italiano sono abbastanza desueti di origine lungobarda o germanica che si voglia dire sono abbastanza desueti anzi evidentemente c'è stata una fase di ripulisti di questi germanismi e però io sono convinto che in quel momento storico l'influenza linguistica germanica doveva essere ben più forte di così perché in altri campi il costume e il cibo gli usi e l'architettura soprattutto la germanizzazione è stata totale basti pensare il pantalone che i latini non indossavano che invece era in uso presso i popoli germanici che è diventato ha completamente sostituito ha completamente sostituito la toga e le calighe completamente scomparse rimpiazzate dalle scarpe chiuse l'uso della tavola per mangiare i romani mangiavano sdraiati e così in architettura la completa scomparsa del tipo residenziale domus casa corte è rimpiazzata dalla cosiddetta casa gotica o comunque la casa a schiera e quindi è curioso che sul piano della lingua l'influenza germanica sia così residuale quando in altri campi è stata quasi del tutto assoluta e io così nel mio piccolo mi sono imbattuto in alcuni esempi che non so confermare per cui chiedo a voi che siete esperti il la radice il verbo con radice multiple andare in italiano ire vado ire ando c'ha tre radici da dove viene la radice andare non viene da founderer domanda no spiego il motivo di questo nella nella transizione dal sistema agrario romano a quello germanico prima gotico e longobardo la possibilità di muoversi da un territorio all'altro scompare con l'introduzione della servitù della gleba per cui è strano che questa radice andare muoversi nella lingua italiana non abbia origine latine apparentemente però io non ne so dare conferma chiedo a voi andare da wanderer francamente non non lo vedo non faccio etimologia latina quindi non non comunque andare c'è anche in spagnolo andare and allora il voto si longobarda cado germanica voglio dire perché non è un radice latina comunque qualcuno mi dovrà spiegare dove viene perché latina non è beh non so se Ramat è ancora in linea lui mi pare che abbia studiato questo termine si è pensato anche a forme derivate da ambitare cioè ambitare infatti c'è Alinei che ha scritto un po' di ambio perché Wanderer vuol dire quello in tedesco vuol dire spostarsi quindi l'assonanza c'è poi la derivazione quella è un'altra cosa quindi lo dimostrerà caro collega Kamis questa è una delle parole romanze più complicate su cui si sono azzuffati per decenni è una parola molto difficile è molto controversa è un'etimologia molto controversa sono state proposte parecchie ipotesi alternative che io sappia questa ipotesi germanica che io sappia però gli amici germanisti qua presenti mi possono smentire non credo che sia mai stata avanzata perché io l'avanzo non sul piano della linguistica ma sul piano storico cioè con la caduta del sistema proprietario latino romano in Italia subentra un nuovo modello insediativo per cui l'uomo non si poteva spostare non so se è chiaro era vincolato al luogo e quindi è interessante la correlazione tra questo evento che è storicamente documentato a la mutazione della dice linguista certo non è latino andare qualcuno può costruire una derivazione ma non è una parola in uso nel latino così con quella forma quindi la mia non è io non sono un linguista ma sono uno storico quindi capisco cosa succedeva in quel momento c'è stata una fase in cui con l'introduzione della terza cioè praticamente i latini non possedevano più la terra e non potevano spostarsi dalla terra dove erano ospiti mentre i proprietari terri erano prevalentemente di origine non gobarda o gotica o comunque germanica quindi cambia l'assetto proprio il regime proprietario cambia e cambia anche la lingua è in quel momento che cambia la lingua queste introduzioni di origine germanica avvengono in quel momento lì quinto o sesto secolo poi cosa è successo da allora fino a oggi e questo è in materia degli studi linguistici però il fatto che a un certo punto il modello culturale socio-culturale politico latino è venuto meno e ne è entrato un altro questo mi pare che è assodato no? Sì sono delle ipotesi come dire intriganti ovviamente però quando si fa la storia di una parola dobbiamo partire innanzitutto con etiche qua io vedo un po' di difficoltà e quindi diciamo gli altri elementi gli altri fattori gli altri vanno vanno servono come dire da conforto da 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 prova del 9 diciamo però ci deve essere come dire una base che in questo momento io francamente non vedo anche a me come a Rosanna su Nicola non mi risulta che fra le ipotesi fatte per la base di per andare ci sia questo collegamento con l'ho fatta io l'ipotesi quindi poi che sia vera o no va bene è stata fatta come dire da 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 uno dei diciamo dei rischi più grandi che che ci sono sono anche rischi legati all'idea di lasciarsi come dire sedurre da assonanze da somiglianze e e quindi poi di trarre o di infilarsi in una strada che in realtà non è quella giusta insomma comunque grazie per questo suggerimento ovviamente come tutti i suggerimenti che si hanno in queste occasioni si prendono appunti e poi si fanno verifiche quindi grazie una ipotesi è quella di ambulare in realtà e quindi poi sulla quale hanno costruito altre ipotesi alternative anche all'INEI quindi diciamo per ora non si esce dal latino per per questo però tutto potrà diciamo sarà verificato penso dai germanismi se posso commentare ce ne sono tante ipotesi lo so bene però come mai la maggior parte delle parole latine non hanno queste mutazioni fonetiche imponenti mentre questa cambia completamente cambia addirittura tre lettere una di fila all'altra tutto è possibile per carità però è curioso ecco sarebbe singolare nei dialetti si usa ancora ire so ito risonterum ma no siamo iti a mangiare la pizza si usa ancora il latinismo però nella lingua italiana non c'è subentrata un'altra radice non c'è dubbio da dove venga poi è un altro argomento da discutere Rosanna avevi detto oggi a Federico in madurata Federico ha fatto i gravi riusciti secondo me ma mi sembra che non ci siano altri interventi no? mi sembra che nessun altro abbia alzato la mano ciao Federico allora forse a questo punto Federico io Elisa Roberto ringraziamo tutti i relatori ringraziamo tutti i partecipanti e tutti coloro che sono intervenuti è stato un bellissimo pomeriggio veramente è stato bello appassionante discutere di tanti problemi veramente veramente centrali e Elisa ha qualcosa da dire volevo semplicemente anche io ringraziare tutti darvi l'appuntamento perché c'è una seconda puntata delle lingue dei Longobardi che ci si terrà il 12 aprile e poi naturalmente salutarvi ringraziarvi e farvi anche gli auguri di buona Pasqua va bene grazie 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 a tutti grazie auguri a tutti grazie arrivederci grazie a presto arrivederci arrivederci a tutti a presto arrivederci grazie 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 grazie